Consigliere, prego Assessore. Provo a fare alcune considerazioni senza avere assolutamente la pretesa, anche lungi da me, avere la pretesa delle conoscenze di chi fa parte della prota di Conti o chi è steso il rievo. Sono semplici riflessioni che però sono anche supportate da calcoli matematici. Allora, permetto che il flusso di cassa viene fatto, viene costantemente monitorato già da alcuni anni. Io credo che nella valutazione dell'anticipo di tesoreria, per un ente locale, per carità, è importante la somma, certamente, di quelle che sono le varie disponibilità che la banca tesoriera ci mette a disposizione, ripeto, la somma, non l'utilizzo, ma qual è il dato più significativo per un comune che è da monitorare? è l'importo degli interessi passivi che si vengono a pagare, è quello che è importante. Noi mettiamo 10.000 euro come capitolo cooperativo, ma gli interessi passivi che paghiamo sono 3.000 euro di euro. Capite che se fosse un normale scoperto di conto corrente di 12 milioni, non sarebbero 3.000 euro di interessi passivi. Secondo, perché dico questo che è più importante a mio giudizio, ma un mio giudizio è da non assolutamente sopra preppiega rispetto a chi è plurilaureato, è presente nella composizione della porta dei conti, ma per un motivo matematico molto semplice, vale a dire, l'utilizzo di tesoreria è la somma di tanti importi che la banca ci metta a disposizione. Ora vi porto un esempio estremo, ma per farmi capire, un esempio astratto. Se io, comune, ho ricevuto 2 milioni di euro messi a disposizione dalla banca tesoriera e rimango in utilizzo di 1.800.000 per tutto l'anno, in quel momento lì, risulta alla fine 2 milioni di euro di anticipazione di tesoreria. Se io ricevo dalla banca tesoriera che mi metta a disposizione 2 milioni di euro, utilizzo, dopo due mesi ho di incassi, rientro, dopodiché, un mese dopo ho di molti liti, la banca tesoriera mi rimetterà a disposizione altri 2 milioni e così via, per 6 volte ho 12 milioni di euro di somma di tesoreria. Ma come interessi passivi ne pagherò di meno rispetto che se io avessi un utilizzo costante per tutto l'anno di 1.900.000 o quello che è. Vedete che è perverso anche il metodo di analisi per quanto riguarda il tema dell'anticipazione di tesoreria. Ecco, è molto più premiante il ragionare di quanti interessi vado a pagare. La prova del 9 anche è dato dal fatto che in questo caso scendo per l'analisi del nostro comune, l'importo che andiamo a utilizzare, cioè il saldo debitore massimo che viene fatto lungo l'anno e che viene monitorato costantemente, è rimasto costante in tutti questi anni. Attorno al milione 9, ecco, di esposizione debitoria non è aumentato. Grazie all'assessore. Grazie Presidente. Sì, però ci sono due, è vero quello che gli dice, però ci sono due cose che non quadrano tanto. E' un dettaglio, diciamo, in Commissione si era detto che la cifra ha montato a 2.500 euro di interessi. Quella era un voto sacco, perché lo scuro si è sotto a me. Questo ancora per avvalorare un attimo la tesi che nel momento in cui, e anche più volte non è stato fatto, si chiede la motivazione per cui si ricorda la dissipazione di tesoreria, visto che avete i dati, sarebbero molto esaminabili in Commissione, cioè ragionare sui numeri, no? Non ragionare sulle descrizioni. Certo. Riguardo invece ancora l'ultimo dato che avrà dato, scusate, per esempio di parole, riguardo la massima esposizione in debito al ricorso di tesoreria è di 1.200.000 euro. Sì, quello che mi hanno fornito l'ufficio. Nella stessa relazione mandata da Ponte dei Conti, per quanto riguarda l'anno 2015, si parlava di massima esposizione poco sotto di 3 milioni di euro. Quindi come massima esposizione dei vittori di 1.900.000 rotti. Sarebbe interessante anche poter vedere, no? Proprio questi fattori analitici, così come un altro fattore attitivo e importante che ricordavo allora, proprio la nuovazione del consumtivo di quest'anno, arrivato nel 2016, che anche, facciamo sempre di prima, l'aumento dei giorni in cui l'idente deve fare ricorso al principio di tesoreria. Adesso è aumentato in questi anni, adesso, a me non si ricordo bene, per il consumtivo del 2016, che era intorno a 212 giorni. Cioè, oggi, alla metà dell'anno, siamo in una situazione di negatività per quanto riguarda il flusso di cassa. È vero che in questo momento i tassi di interesse sono bassissimi, per cui questo non ha incidenza. Però se l'anticipo di tesoreria è strutturale, e io ancora non ho capito perché abbia avuto questa progressione in questi anni, è molto importante, perché nel 2014 oggi si è criticato, no? Il valore un'altra, questi valori, interesse, diventeranno sempre più importanti. Visto che spesso, quando si tratta di fare interventi, variazioni per servizio cittadino, di qualunque natura, manutenza valutinaria delle scuole, finanziamento del piano formativo per più o meno, è vero di 4.000 euro, nell'ambito del finanzo di Unente, con una spesa corrente di circa 1.000 milioni di euro, è quasi rilevante. Ma nel contesto del singolo evoci può essere importante, se la confrontiamo con il finanziamento per il piano formativo che vale 1.000 euro, ecco che questa voce assume un significato più importante, non poter prendere gli arremi scotastici per qualche milione di euro, assume rilevante. Quindi ogni piccola voce diventa importante, relativamente proprio all'intervento di cui stiamo parlando. E la preoccupazione della Porta dei Conti la condivido proprio in questo senso, cioè se questo ricorso di situazione di cassa, di tesoria più scusa, è strutturale e nel tempo continua a modificarsi, pur rimanendo nei liquidi di legge, adesso, ma ci sia ancora la proroga, per i piccoli dicesimi rispetto alle trattate e torrenti, può portare ad un aumento progressivo, soprattutto in fase espansiva economica, degli interessi passivi e quindi dell'incidenza anche pratica e finanziaria di questo fatto rispetto al divagio mondiale. Grazie. Io mi inserisco per questo dibattito, ma anche bravissimamente, perché come noto, come presenta il Consiglio, ho ricevuto la letta, la comunicazione da parte della Porta dei Conti, che sono praticamente attivato affinché questa venisse conosciuta e resa nota e discusa delle sede opportune. Senza entrare nel merito, ovviamente, della questione che c'è stata affrontata da chi mi ha preceduto, sia anche dalla Giunta, sia anche dal Consiglio, secondo me vale la pena rimancare una notizia, che questa sì è importante e molto positiva, vale dire che la Porta dei Conti non ha assolutamente rilevato alcun problema, alcuna difficoltà, alcun errore, mentre, certo qui non c'è da gioire sicuramente, non c'è da constatare che altri comuni, vicini o lontani, più vicini o più lontani, rispetto a noi, hanno ricevuto la Porta dei Conti ben alti rilievi per quanto riguarda le operazioni finanziarie e di contabilità dell'ente comunale. Ecco, questo proprio ha beneficio anche di chi magari fosse stato un po' al di fuori di queste informazioni o non avesse colto il significato o anche il contesto in cui questa presentazione e anche il dibattito di questi minuti è stato fatto. quindi un ulteriore conferma della volontà del lavoro che è stato fatto da chi in questi anni, ci riferiamo in particolare per quanto riguarda la verifica del Proto dei Conti all'esercizio 2015-2016, quindi un ulteriore conferma del lavoro fatto a regola d'arte e va a onore quindi sia dell'amministrazione sia di tutti quelli che negli uffici, a cui sai la dirigente e poi tutta la ripartizione lavorano quotidianamente per salvaguardare forma e sostanza. Sì, ci sono ancora interventi, altrimenti io metterò in votazione. quindi pongo in votazione la proposta numero 3. ecco, va bene, possiamo votare. il consiglio approvo con 9 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto. prego. 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 grazie a lei, M. grazie a lei, M. grazie a lei, M. grazie a lei. grazie a lei. grazie a lei. proposto numero 4. affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Brava nel periodo 2018-2022, indirizzi, approvazione e schema di convenzione in relazione all'assessore Pogliani. grazie. grazie. a fine anno, scade il contratto quinquennale per il servizio di tesoreria in essere con la cassa di risparmio di Brava. con l'approvazione questa sera dello schema di convenzione per i prossimi 5 anni parte l'iter per l'affidamento del servizio. l'approvazione di competenza del Comune in quanto in ragione dell'importanza e delicatezza del ruolo che l'istituto tesoriere riveste nell'ambito dell'attività contabile e finanziaria dell'ente. sino all'individuazione del nuovo tesoriere, continuerà essi alla cassa di risparmio di Brava a svolgere il servizio sulla scorza dell'attuale contratto che ci lega all'istituto. intanto saranno avviate le procedure di gara per l'affidamento sulla scorta di una convenzione che ricalca nella sostanza quella esistente con introduzione di alcune novità. in primo luogo l'adeguamento a due nuovi sistemi di interscambio che coinvolgeranno la pubblica amministrazione a partire dal 2018, ovvero il sistema di flussi denominato SIO per Più e quello di pagamenti denominato Pago Pia. A questi si aggiungono la richiesta di una corsia preferenziale per i clienti che usufruiscono dei servizi di tesoreria all'interno di almeno una delle filiali dell'istituto presenti in Brava ed un maggior accento sulla possibilità di utilizzare monete elettronica nei pagamenti comunali. Grazie all'assessore. Se non ci sono interventi vorrei in votazione questa proposta. Non ci sono interventi, va bene, quindi stessa procedura. il gruppo sarà immediatamente eseguito. Quindi segnaliamo la presenza. Il gruppo è salvato anche il consigliere di Carrera. Quindi siamo in 15. Bene, presenti 15, possiamo votare. Votazione chiusa, approvato l'unanimità. Adesso passiamo all'immediate esegibilità. a presto. Grazie, procedura. Grazie. 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 Possiamo votare? L'ho votato tutti. E anche l'immediata eseguibilità è all'unanimità. Allora, dalla delibera 5 alla delibera 16, compresa, è il pacchetto corposo. Del bilancio di previsione, con tutte le delibere abbegate, direi come abbiamo sempre fatto dal tempo, anche nelle passate consigliature, il dibattito avviene su tutte le delibere fino alla 16, comprese, quindi scusa l'ultima, con la possibilità di avvalersi del doppio dei tempi come da regolamento. Quindi ciascun consigliere ha a disposizione 30 minuti, poi ulteriori 10 minuti per le repliche e ulteriori 10 minuti per la dichiarazione di voto. Voglio consigliere all'ultima di regolamento a disposizione 30 minuti per l'intervento, 10 minuti per la replica o la controreplica o quello che ritiene e ulteriori 10 minuti per le dichiarazioni di voto. Quindi ricordo la tempistica e siccome i tempi appunto sono dilattati, io pregherei di non sporare i tempi previsti dal regolamento, tenendo conto che raddoppiati il tempo ovviamente è maggiore rispetto alle delibere ordinarie. Fermo restando ovviamente che le votazioni saranno poi delibere, alcune delle quali anche con immediata esegnibilità, come abbiamo avuto modo di vedere dal materiale che ci è stato prontamente consegnato dagli uffici. Quindi cominciamo allora questa discussione, la parola all'assessore Cogliato per l'illustrazione. Prego. C'è il verbo, forse lo devi spegnere se riesci a spegnere da lì. Cogliato per l'illustrazione. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Secondo progettualità su trasporto e mobilità sostenibile. Grazie a tutti. 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 rifiuti, anche qui le istituzioni, le commissioni servizi appaltati e ambiente, ma anche altre realtà della nostra città, in quanto questa voce di costo è una delle voci principali del nostro bilancio. La quarta, culture e manifestazioni anche come motore finanziario per la città, l'abbiamo toccato con mano e sono convinto che lo toccheremo sempre di più, non tanto per quanto riguarda le casse comunali, anche se vogliamo direttamente per quanto riguarda le casse comunali, ma, e lo rivederò più avanti, il dovere dell'amministrazione comunale è anche di ragionare in termini microeconomici, non macroeconomici. Prattanto, questi argomenti qui possono essere un volano, un forte volano di microeconomia, di economia locale. L'ultimo, vivere il territorio. Vado a dire, se da parte di un'amministrazione, spieto, spero di spiegarmi bene, sono sempre riflessioni. Nel momento in cui vive la città, partecipa alle manifestazioni, non lo vive con un atteggiamento di non fare passerella, ma un atteggiamento di interloquire con la gente, di capire quali sono i problemi, poi se si possono accogliere bene, eccetera, questo è una parte essenziale ed è un argomento importante che viene riflessa nel bilancio. A tutto questo però ci sono dei limiti di azioni e quando parlo dei limiti di azioni non voglio fare le notevolenti, non mi pongo in quell'atteggiamento lì, sarebbe troppo semplice perché vorrebbe sprecare su altri il fatto di non poter fare. Sono delle riflessioni oggettive che però non devono essere un parametro alle nostre responsabilità. Il primo, risorse finanziarie anche per l'equilibrio futuro. Io credo che un'amministrazione abbia il dovere di rendere sostenibile il proprio bilancio. guardate che ultimamente, in particolare la regione ma anche molte fondazioni bancarie, quando preparano un bando, in particolare sulla progettualità sociale ma non solo, ci chiedono di provare che quel progetto possa poi camminare, possa essere sostenibile per il futuro. Io credo che questo sia un dovere per un'amministrazione, non tutto e subito, ma porre le basi per chi viene dopo, possa in qualche modo continuare in quello che noi stiamo vivendo. Rafforzamento della sussidiarietà circolare. L'anno scorso in una dei slide avevo parlato della sussidiarietà verticale e ambientale, l'ultimo circolare. Città circolare in cui viene coinvolto le varie componenti della città per il bene comune, il chieso per l'amministrazione per il buon andamento di un comune. Non è da confondere la sussidiarietà circolare solo in campo di politiche sociali, ma a 360 gradi. Credo che Brannum fa eccezione ad altre realtà, perciò credo che su questa strada c'è ancora molto cammino da fare, ma è una grossa scommessa, sarà una scommessa fondamentale per la sostenibilità dei nostri bilanci. Sarà un'azione culturale e credo che sia anche il dovere di un'amministrazione, anche per il futuro, mettere nei propri programmi amministrativi capitoli che riguardano questo argomento. Specifiche competenze su problematiche volte sentite da gente. Vale a dire, anche qui per non nascondereci di essere un dito, noi siamo diventati interlocutori su tematiche importanti, vissute dai nostri concittadini, su quali le competenze principali sono di enti superiori. Su questo noi non possiamo nascondere, ci trattare perché dobbiamo cercare di dare le risposte. Peccato che, mentre molte volte le risposte in via pratica, nella realtà vissuta, sono delegate all'ente locale, non sempre viene delegato all'ente locale, ha anche le risorse finanziarie per permettere in grado di dare delle risposte compiute. L'ultimo, ma lo ho già ripreso prima, non fermarci ad altri marchi economici, ma nei limiti di competenze e legge, fa abolire lo sviluppo locale. Porto un esempio che lo trovate già a bilancio, che è frutto di proposte che sono venute anche dalla minoranza nelle precedenti discussioni del bilancio, ma non solo, perché veniva ripreso anche in altre occasioni, che è stato frutto anche di commentazioni del tavolo attività produttive. Quest'anno abbiamo spostato da funzioni di politiche sociali a funzioni di attività produttive 20.000 euro, come un esempio, il Comune mette una prima fetta per un possibile fondo per buona occupazione, ma come già detto e ribadito, nel tavolo attività produttive, il Comune non vuole essere da solo su questa strada, vuole che anche le associazioni di categoria, le fondazioni bancarie, altre realtà, possano metterci anche qualcosa per far sì che il fondo possa essere interessante sul tema della buona occupazione. Buona occupazione vorrà dire poi eventualmente delineare una facilità, vuole farci poi dei ragionamenti condivisi insieme, ma noi nel nostro caso il primo stanziamento è stato fatto. Caratteristiche. A mio modo di vedere il bilancio deve far emergere due volontà fondamentali, corretto e coraggioso equilibrio fra le potenzialità di un bilancio e la necessità e priorità di una comunità cittadina. Prima un collega di Consiglio parlava delle parole che aveva sentito dal Presidente della Repubblica nell'incontro che ha avuto al Pirinale. Recentemente i nostri giornali hanno messo in risalto un suo intervento quando ha incontrato le massime autorità dello Stato per i saluti e gli auguri di fine anno e Mattarella si è augurato che la prossima campagna elettorale, al di là dei toni, sia caratterizzata da proposte che in qualche modo non prendano in giro la gente, cioè non proposte che tanto poi non si potranno realizzare perché vanno oltre le potenzialità economico-finanziarie di una nazione. La stessa cosa credo che devo fare un ente locale in cui si pone degli obiettivi alti, si pone delle mete anche toste, difficili, ma in qualche modo sempre con rispetto dei cittadini, in qualche modo che possono avere un percorso fattibile. A quel punto può diventare un interlocutore serio e affidabile con le varie componenti della società per azioni di squadra con limiti dei propri compiti. Mi ha colpito moltissimo, per questo ve l'ho ricordato, che ultimamente o meglio, sempre di più i bandi richiedono squadre, non esiste più uno solo che partecipa a un bando, perciò ci sono gli enti istituzionali, ci sono associazioni, volontariato, ci sono cooperative, sociali, eccetera. Ma mi ha colpito che a volte bandi in cui il comune non può partecipare in prima persona, perciò altre realtà ci vengono a chiedere di essere partner, ma non ci vengono tanto a chiedere di essere partner per mettersi dei soldi, ma perché in qualche modo risultiamo credibili. Ecco, questo mi ha fatto piacere e l'esposizione numerica è anche lo specchio della credibilità. L'ultimo aspetto di considerazioni, io ho appunto poi la voce forte, ma vorrei sempre che sono considerazioni in punta di piedi, ecco non è da gelo, sono riflessioni che in qualche modo ho fatto cercando di analizzare il bilancio, quello che ho chiamato fuori dal palazzo. Certamente stasera voteremo il bilancio, ma non finisce con la discussione di oggi, non finisce neanche con, giustamente come la legge lo richiede, più volte è evidenziato anche da diversi consiglieri, il fatto che tutto venga messo sul nostro sito in modo che i cittadini possano vedere. Non finisce neanche se dovessimo moltiplicare la documentazione che vi è a disposizione, ma solo se tutto questo saprà spiegare, giustificare, rendicontare, se saprò interagire con la realtà cittadina e dure i numeri, quanto so cogliere di opportunità, se rispetto i fatti col territorio e l'ultimo, ma importantissimo, quando agisco per il bene comune non solo attuale, ma anche futuro. Ecco, premesso tutto questo, andrei sull'aspetto più numerico, sempre seguendo un po' quello che è l'impostazione del DUP e anche il DUP inizia nelle prime pagine con il tema degli indici di bilancio, sono tanti, ne ho scelti alcuni, secondo me, opinabile, abbastanza significativi per dare un'idea. Il primo è l'autonomia, l'autonomia vuol dire il primo titolo e il terzo titolo delle entrate, il primo sono le imposte e il terzo sono le entrate estratibutarie, cioè le tariffe, rispetto al totale entrate. Arriviamo quasi al 97%, vuol dire che quasi il 100% delle nostre entrate del bilancio comunale arrivano da questi due macro aggregazioni, i trasferimenti incidono pochissimo sull'aspetto entrate. Se lo facciamo sempre detti, è il effetto vederlo in percentuale. La rigidità di un bilancio, ve lo farò vedere più avanti con la style, noi abbiamo continuato a scendere delle spese fisse, però vedete che comunque la rigidità si mantiene discretamente costante, scende la pressione fiscale foccante, un po' tempo a dietro perché comunque non abbiamo agito sulla leva finanziaria negli ultimi anni perché abbiamo anche il blocco delle imposte. Aumenta l'incidenza della restituzione erasiale, dopo nella stadia più avanti entriamo nel merito. Gli interessi passivi, non è il tasso, perché il 3% in questo momento sarebbe patente se dovessimo pagare quello, ma l'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti incidono poi il 3%. Altra cosa, voi lo vedrete anche qui più avanti, per ragioni di copertura finanziaria, gli investimenti in termini assoluti di importi sono cesi negli ultimi anni di investimenti fattibili, però notate una cosa, l'incidenza degli investimenti sulla spesa corrente è aumentata. Cosa vuol dire? Vuol dire che la spesa corrente che lo vedrete più avanti, negli ultimi anni è diminuita fortemente e dopo andremo anche a analizzare le motivazioni. In ultimo, la percentuale di sbattimento dei debiti commerciali. Credo che stanno restando le discussioni che avrebbe già fatto il Consiglio Comunale sui giorni di ritardo eccetera, però credo che sia importante abbinare a quei ragionamenti questa percentuale raggiunta del 71 e mezzo nel 2017. L'obiettivo quasi l'80% nel 2018 con l'impostazione che abbiamo dato a bilancio. Cosa vuol dire il sbattimento dei debiti commerciali? Vuol dire che l'importo delle fatture che arrivano nell'anno, ci poniamo l'obiettivo che circa l'80% verranno pagate, ecco l'anno. Ecco, questo è importante, abbiamo già raggiunto circa il 72%, l'obiettivo per il 2018 è di andare attorno a circa l'80%. Andiamo avanti, politica tributaria. Anche qui vedete che a direttura in diminuzione l'importo dei tributi locali in diminuzione, non perché sono diminuite la liquida o queste cose qui, ma perché sono finite, non so, gli immuani precedenti, questi capitoli che trovavano ancora una certa importanza nei bilanci precedenti. Vedete l'incidenza spettata sulle totale delle entrate che spiora il 68%, l'incidenza sugli abitanti che sono di 508 euro in diminuzione, ma soprattutto l'importo sia numerico che valore assoluto delle agevolazioni. In particolare, vi ho preso una campione perché poi ritorneremo dopo su questo capitolo, per quanto riguarda l'Atari, sono 584 utenti che sono interessati per un complessivo di agevolazione di circa 144 mila euro. Passiamo alla politica tariffaria. Anche qui l'importo delle entrate è di poco superiore rispetto al 2017. Non abbiamo aumentato nessuna tariffa, questo già con le delibere fatte nell'estate, cioè prima dell'anno scolastico, perché la politica tariffaria tocca quasi tutti i servizi a domanda individuali. Però guardate che la percentuale di copertura dei servizi, c'è l'entrate rispetto ai costi, in prospettiva spiorerà il 76%. Questo è dovuto anche alla spiegazione. Ultimamente, veramente, in tutti i posti dove ci capita di interagire, dobbiamo spiegare che non esiste il signor comune, quella C, ma il fatto di garare delle cose non vere che poi eventualmente vengono verificate e poi dopo richiesto più tardi. Oppure essere insolventi e fare un danno direttamente a tutta la collettività. Pertanto vi è più attenzione, credo, da parte di tutti i cittadini al pagare i vari servizi che ricevono. Al fatto che questi servizi sono apprezzati al fatto anche che vi è un'attenta azione di recupero morosità e al quarto anche che sono implementati e modificati anche le modalità di pagamento, ci ha permesso tutto questo insieme di aumentare a parità di tariffe la copertura dei servizi. Siamo all'incidenza di circa il 10% sul totale delle trate con un ammontare delle agevolazioni di circa 200.000 euro e un mancato incasso in diminuzione per effetto di quello che vi dicevo prima. Quando parlo dei 200.000 euro di agevolazioni non è un dato per vantarsi se noi concediamo quelle agevolazioni, però è un dato che l'amministrazione deve attentamente moltitolare perché è uno degli aspetti che va a giustificare poi le decisioni che vengono a prendere nel momento in cui si creano anche le tariffe e le relative decisioni in merito. Siamo pure avanti. Indebitamento. Credo che su questa slide partirei dal dato in rilievo sulla sinistra. Vado a dire, attenzione vorrei essere chiaro, lo do in termini oggettivi, non esprimono nessun, lungi da me esprimere nessun giudizio. Nel 2009-2010 vi era un debito residuo mutui di circa 20 milioni di euro. Nella fine 2017 siamo con 4 milioni in meno di debito residuo. Eppure anche con voto contrario da parte di una parte del Consiglio, fatto accezione alcune volte, abbiamo sfruttato anche in questi anni alcune rinegoziazioni, se no il debito residuo sarebbe stato ancora più basso. L'abbiamo sfruttato per riuscire a finanziare dei servizi e delle opere importanti per la nostra città. Bene, ciò nonostante siamo riusciti a diminuire quello che è l'indebitamento globale di 4 milioni. Vi grandisco che in questo momento, andando avanti ancora, ci sono altri dati, insomma, vedrete che ritengo che non sia poca cosa. Siete conto che comunque la quota di ammortamento capitale supera ancora i 500 mila euro, la quota di interessi siamo a 711 mila euro. Prego, andiamo pure avanti. Come viene finanziata la spesa corrente? La spesa corrente nel previsionale 2018 si è stessa poco superiore ai 22 milioni di euro. Non dobbiamo dire che l'anno scorso era sui 22 milioni e 8, adesso è scesa di 600 mila euro. Non è così, perché dipende anche molto se già l'anno scorso vi erano già delle lettere da parte di enti superiori che ci garantivano il finanziamento e la copertura di certe progettualità, li potevamo già scrivere a bilancio, eccetera. Però, notate questo, su 22 milioni e 2, il 67% è finanziata dai tributi, il 26% dall'entrata estratributaria, pochissimo da enti terzi, cioè dallo Stato o enti superiori. Concorre alla quadratura della spesa corrente anche un pezzo di quali sono le onde di urbanizzazione che quest'anno, pur in diminuzione, però si attesta su 250 mila euro. Come vengono finanziati gli investimenti? Gli investimenti sono finanziati per un 27% dell'ione di urbanizzazione, per un 31% da mutui, per il 37% da contributi. Attenzione, nei contributi possono esserci anche i fondi rotativi, cioè il fatto che può arrivare un contributo, non so, dalla regione Piemonte, per cui dobbiamo restituire. Cosa ben diversa nella sostanza, molto vicino a un concetto di mutuo, ma ai fini del patto di stabilità, diverso dal concetto del mutuo, in quanto quell'importo lì ci conta come entrata, perciò ci agevola ai fini del patto di stabilità. Due osservazioni. Io credo che la slide di prima e la slide adesso sia importante da far conoscere ai cittadini, perché occorre capire anche le risorse che si hanno a disposizione per far fonte ai vari investimenti. Osservazioni che venivano altre volte, legittime, potete fare dei muti in più, perché la legge lo permette. Tre considerazioni. Se guardiamo gli indici di bilancio, è vero. La legge permette, potremo fare dei muti molto di più di quello che abbiamo scritto di 1.090.000 per il 2018. Se guardiamo quello che in termini bancari viene chiamato servizio del prestito, si attema un pochino, perché poi dobbiamo calcolare che la spesa corrente, del tratto corrente, ci permettono anche la restituzione di questo prestito. Ma la cosa più importante ancora, se guardiamo le regole del patto di stabilità a oggi, quello è all'incirca il limite massimo che possiamo andare sui muti, perché se mettessimo delle cifre superiori, in questo momento, poi ci possono essere novità lungo il 2018, ma in questo momento potrebbe essere non garantito il raggiungimento del patto di stabilità. Prego. Allora, importante questo, quando arrivava dallo Stato, nel 2009 avevamo 7 milioni di trasferimenti dallo Stato, nel 2018 un milione, cioè nell'arco dei nostri due mandati sono 6 milioni in meno che arrivano dallo Stato. 6 milioni, teniamo la mente, più i 4 milioni che dicevo prima di diminuzione del debito. Andiamo avanti. Vedete che ultimamente si è assestato positivo che l'anno scorso il governo ha deciso di bloccare il taglio dei trasferimenti, quest'anno addirittura ai comuni come i nostri che hanno i costi vicini ai costi standard si è stati premiati con 100 mila euro in più. Non ci sconvolgono il bilancio, però è già un segnale. Andiamo pure avanti. I permessi di costruire. Anche qui, nell'arco di un certo periodo, dal 2009 a oggi è circa un milione in meno. Allora, 6 milioni in meno di trasferimenti, 4 milioni che abbiamo diminuito i mutui, circa un milione in meno di olio e di urbaniazione sono 11 milioni, la metà della spesa corrente. Cioè, guardate i raffronti, ecco, come ente locale, la raffronte a tutte quelle che sono le nostre incongenze. Andiamo pure avanti. Ho fatto due slide che sono interessanti per le percentuali. Voi avete visto che, forse un mese fa, circa, il sole 24 ora pubblicato per i comuni, col coluomini di provincia, degli indicatori della qualità della vita. Non sono in grado di fare una cosa del genere, perché ci vorrebbero degli fici studi, degli accordi con le università, eccetera. Li abbiamo fatti in maniera un po' rudimentale, però grazie al nostro lavoro, ecco così, di squadra, siamo riusciti a scoporare per certe missioni, quelle che sono le spese rigide, allargate, perciò il personale, riscaldamento, utenze e interessi passivi. Bene, sul quale abbiamo centrato l'obiettivo di riunire la spesa corrente. Ecco, il fatto che manteniamo le percentuali di incidenza è perché sulle missioni che riteniamo compongono quello che si può chiamare la qualità della vita, sono due le slide, qualità della vita 1 e qualità della vita 2 e dopo, che compongono circa l'80% del nostro bilancio, le percentuali sono rimaste quasi del tutto invariate, possono variare di qualcosetta, per esempio cultura, sport, turismo, manifestazioni, lo scorso anno era influenzato dal tema CISE, ecco che gonfiava un pochino questi aspetti, andiamo pure avanti, per quanto riguarda le politiche sociali vi può essere una differenza dovuta al fatto che avevamo già delle autorizzazioni da enti superiori o meno per scrivere a bilancio o meno. prego, andiamo pure avanti, come vedete l'ho portato perché è giusto se lo dico è giusto anche poi dimostrarlo, l'anno scorso avevamo potuto scrivere quasi 116 mila euro per quanto riguarda progetti già provati, quest'anno ne possiamo scrivere solo 15 mila euro. Avanti, questa è la dimostrazione degli ultimi tre anni, la tendenza che abbiamo agito sulla spesa fissa, perciò tema personale che incorpora anche le somme accantonate per il rinnovo del contratto per i pubblici dipendenti, utenti, interessi passivi e rispettamento, prego. Time, sono siamo all'ultima slide, ecco tema importante che ha caratterizzato alcune scelte per quanto riguarda il nostro bilancio. Per spiegare bene, ritengo anche se brevemente, poi riprendo eventualmente il sede di bilancio, che cosa si era deciso allora, quando c'è stato il passaggio da Tari a Teosuo, Tarsu, Tarsu a Tari? Noi si era deciso di applicare il metodo normalizzato ma non integrale, cioè basarsi solo sulle superfici tassate ai fini della Tari. Questo per far sì che non cavasse perché le decisioni della loro governo ci avevano messo in mano agli enti locali dei coefficienti che davano gli indici che davano la potenzialità di produzione e rifiuto, degli indici che penalizzavano molto diversi settori mercologici. Allora, essendo una crisi ancora più difficile di oggi e il fatto che già in quel momento lì le realtà produttive venivano penalizzate da questi coefficienti, si era deciso di applicare solo in parte il metodo. Pertanto, la fotografia che ne risultò fu che il 75% veniva ripartito sulle utente domestiche e il 25% veniva ripartito sulle utente non domestiche, ponendoci l'obiettivo che di aggiustamento può andare del tempo, soprattutto sperando anche un attenuarsi della crisi economica e soprattutto poi in vista dell'anno in cui ci sarebbe stata la nuova gara per quanto riguarda non da parte nostra ma da parte del Coaster per la raccolta dei frutti. Siamo arrivati quest'anno, il 2017, preparando il bilancio 2018, anno in cui ci sarà la gara, nel applicare il metodo normalizzato in legale, non esiste un avvenimento, o si applica o non si applica, a quel punto applicando il metodo normalizzato che vuol dire far sì che non viene solo calcolata per la parte variabile la superficie tassata, ma la superficie tassata applicandogli i coefficienti stabiliti dallo Stato di possibile produzione dei rifiuti. Questo ha portato a una nuova fotografia, dal 75-25 a un 60-40, solo per la parte variabile, vale a dire uno spostamento di circa 240 mila euro dal domestico al non domestico. siamo arrivati col bilancio e con gli obiettivi che ci diamo lungo il 2018 di andare ad attenuare questa grado che ha avranno le utenze non domestiche, perché le utenze domestiche, le famiglie, le 12 mila famiglie circa che compongono la nostra città, avranno per effetto di questo riequilibrio un vantaggio, perché avranno in media uno sconto, una riduzione, in termini di tutto il retto, una riduzione di circa il 10%, poi dipende, sono 4, 3 o 2 i componenti, provato proprio materialmente, dipende dal numero dei componenti nucleofamiliari, mentre invece per le utenze non domestiche l'impatto sarà superiore, quindi 6-7% dipende dal settore mercologico. Ora, noi abbiamo raddoppiato il capitolo compensativo da 15 a 30 mila euro, l'obiettivo è di portare, sfruttando le indicazioni che sono state date, frutto dal lavoro di giunta, maggioranza, le due commissioni, indicazioni da tal co-after per una base di gara più bassa e dall'eventuale più basso di gara, portare una fetta di questo a incremento del fondo compensativo. Se il fondo compensativo potrà arrivare a circa 100 mila euro, in questo modo, usando il fondo compensativo, la detrazione fiscale, perché una famiglia comunque non la porta in detrazione la tari, un'attività produttiva la porta in detrazione, poi dipende dalla tipologia di impresa e anche dalla tipologia di contabilità, vuol dire attenuare tra il 50, 55, 60% dipende da situazione a situazione, quello che è l'impatto di aumento. Cioè in poche parole, usando il fondo compensativo riusciremo, pur applicando un metodo normalizzato e integrale, ad attenuare l'impatto sulle attività produttive. Penultimo, il gruppo. Ritorno a dove sono partito. Vado a dire, non metterò nel merito, non c'è tempo, per illustrare tutto quello che è contenuto nelle 140 pagine YouTube. Io credo però che nelle 140 pagine, chi ha la voglia di leggerle, sono declinati gli obiettivi futuri strategici su cui cogliere tutte le opportunità, via un'analisi di riconoscenza del territorio, è evidenziata l'organizzazione interna, ci sono analisi per quanto riguarda le prospettive di politica tributaria, tarifare, agevolazioni, recupero omorosità, fonti di finanziamento, vi sono considerazioni sul ricorso al credito di indebitamento, via l'aggiornamento costante dei programmi in modo particolare per quel che riguarda i lavori pubblici e in ultimo la destinazione del patrimonio comunale. permettetemi di chiudere con una slide che forse di contabile non ha nulla, però il caso ha voluto che mentre preparavamo il bilancio previsionale, meglio, insieme agli uffici si cercava di analizzarlo, ecco, per renderle più chiaro, ero coinvolto anche nella preparazione di un appuntamento per la nostra città, il tema importante del ricordo di Don Lorenzo Milani a 50 anni dalla morte. Questo mi ha portato a rileggere alcuni passaggi dei suoi scritti e partendo dal principio che ho detto prima, cioè vado a dire che il bilancio non deve finire con la votazione di stasera, ma deve avere la sua quotidianità tutti i giorni del 2018, mi hanno colpito queste tre riflessioni, vado a dire, diceva, vieta coscienza civile e responsabilità sociale, cioè mai meno ad assumersi le proprie responsabilità. Passo l'ultimo, per le persone che vivono nella società avere la capacità critica, cioè la capacità di mettersi in discussione continuamente, non dare presso dato che se ho un bilancio in quel modo, ma se quella realtà mi modifica, avere il coraggio nei limiti delle quadratura finanziarie a modificare, se occorre. Ma in ultimo, che secondo me è la più importante, prima di essere assessore, consiglieri comunali, mi permetto sindaco, o altre cariche istituzionali, ognuno di noi è cittadino, pertanto mai dimenticarsi che non siamo altro, non dobbiamo mai essere altro rispetto alla città, ma occorre cercare l'onestà, la serietà e l'impegno per il bene comune nel nostro compito, prima di tutto come cittadini. Forse è un'obietà, io pensandoci e soprattutto analizzando, collegandolo al bilancio, credo che però sia un'obietà da ricordarcelo un po' più di frequente. Grazie per l'attenzione, scusate se ho spavolato. Grazie assessore, il suo intervento articolato e preciso. Adesso si può aprire il dibattito. Grazie. Grazie. Grazie, grazie Presidente. Grazie a tutti. Mi chiedo scusa in anticipo, volevo però partire dall'intervento dell'assessore su alcuni comuni in particolare, però prima ancora di questo una nota. Prima tra una proposta all'ordine del giorno e la successiva c'è stato un intervento del Presidente della Commissione di Finanza, in cui ho detto che per impegni personali non potevano più svolgere l'incarico del Presidente della Commissione di Finanza. A parte l'evitualità del momento, sarebbe stato anche opportuno ricordare che la Presidenza della Commissione di Finanza di fatto è in mano al Vice Presidente, ormai da sbagliati mesi, quasi due anni, a sostanza, ma nel mezzo abbondante, che sarebbe stato anche opportuno ricordare che il sottoscritto, ma in quel momento parlavo anche perché è stato frutto di discussione negli ultimi mesi, in particolare con il collega di essere giovanero, abbiamo chiesto esplicitamente che venisse fatto, diciamo, questo passanghiero, perché recentemente per impegni personali più che leggettili, il Presidente non stava più svolgendo su un carico, come ricordavo prima da parecchio tempo, e anzi, mi dispiace quindi che non sia stato detto questo in questa comunicazione, quasi come se non ci fosse stata nessuna sollecitazione, in merito c'è stata, se si voglia ricordarla, di meno la realtà dei fatti, anzi abbiamo aspettato anche molto tempo prima di farlo, e sarebbe stato sicuramente meglio che fosse stata prima per il buon funzionamento della Commissione. Passo ad alcune cose invece che ha ricordato l'Assessore. La centralità del DUP, che è l'inizio del discorso, della presentazione del bilancio supervisionale dell'Assessore, e poi anche è stata la chiusura. Ha ricordato come questo documento non sia una mera formalità, diciamo, burocratica, amministrativa, ma una guida prima descrittiva e poi sorvetta da numeri, su quale debba essere da un lato l'azione amministrativa e dall'altra, o meglio, l'azione di guida politica, quindi diciamo la guida strategica, da una parte e dall'altra la guida operativa, quindi quella che riguarda la funzione amministrativa dell'Ente. Ricordo che queste considerazioni le avevo fatte alla prima presentazione, al primo DUP, anzi il secondo, in questo Consiglio, quando ahimè quel documento presentato era totalmente vuoto, era una scatola vuota, c'erano solo descrizioni da biciclopediche senza alcun riferimento soprattutto strategico e considerazioni strategiche, cioè di parte, diciamo, politica. Anzi, addirittura mediani con un semplice copia in colla delle cifre. Quindi, come dire, accolgo con piacere trovare centralità in questo documento come guida che serve sia nella scrittura ma anche nella lettura delle due parti in cui si svolge l'attività amministrativa, come dicevo quella, diciamo, strategica, quindi politica e quella operativa amministrativa. Un altro punto, beh, ho dimenticato di fare una premessa importante. Ovviamente io, per il mio intervento, mi avventarò delle parti critiche, o meno che io considero critiche riguardo il bilancio revisionale, il regalo particolare del DUP, la lettura del DUP, per fare la mia analisi e, come dire, tralascio a pariolette gli aspetti positivi. Lo dico non così da piageria, perché gli aspetti positivi ci sono, ma, e bravura vostra, è, diciamo, pone all'onore vostro andando a esporre e a mescolare. Quindi dovrò per forza tralasciarli. Tra questi, l'ho già ricordato nel bilancio consumtivo del 2016, ma voglio ricordarlo ancora oggi, c'è l'aspetto, secondo me, molto importante che è quello di cercare di recuperare i debiti dei cittadini nei confronti dell'ente con un'azione di recupero che non sia punitiva da un lato, dall'altra che non sia stile o da un'azione cartelle, ma che sia un recupero che faccia, scusate, un'azione che faccili il recupero, dimostrando dove ci deve essere comprensione e serietà, a rigore e a rigore, anche il rispetto, dell'uguaglianza dei diritti pubblici dei cittadini nei confronti invece di chi, diciamo, maliziosamente forma il suo debito nei confronti dell'ente. Citava in una delle prime slide le relazioni con l'esterno nell'attività dell'amministrazione. Ciò è, riassumendo, una parola alla partecipazione, alla compartecipazione. Ecco, io qui devo annotare un punto negativo, secondo me, di questa voce, che spesso questa partecipazione è rifacciata in sostanza, perché il punto fondamentale della compartecipazione non è chiamare qualcuno a venire a sedere a un tavolo per parlare di un tema, ma, dato che, come ente, ha sto da una situazione di vantaggio conoscitivo l'argomento di cui tratto, il primo passaggio deve essere l'informazione. Parleremo di tagli, lei aveva già parlato prima, la soffia del sfruttamento, della tagli, no? Se chiamano le parti sociali coinvolte da queste modifiche della tagli a discutere di questa, faccio un esempio, di questa variazione importante, devo dare loro tutti gli strumenti per capirla. Non basta semplicemente a raccogliere le suggestioni in base alle conoscenze che le persone non formate in campo specifico possono avere, o le impressioni a questo punto che possono avere. La partecipazione per essere effettiva deve essere preceduta dalla conoscenza e dall'informazione e questa è una gamma che manca. Per quanto riguarda la pressione fiscale, la pressione fiscale ha detto bene, c'è il blocco da un lato, c'è una via brigata, dall'altro, l'avevo ricordato anche un altro consiglio, ad esempio la lingua comunale IRPEF aveva subito un grandissimo aumento negli anni scorsi e più là non si poteva andare. Dall'altra parte ha omesso anche di citare il fatto che nel 2014 oggi l'aumento, ad esempio, e quindi la copertura di una parte della spesa corrente è stato dovuto anche a quasi 900 mila Euro dall'aumento delle sanzioni con la regolazione del codice della strada, senza, ovviamente sempre, una reale ripartizione secondo i termini di legge per la quota parte di queste sanzioni per gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale. Ora, altri punti invece che mi interessava toccare sono che nel DUP c'è, è stato citato anche che in parte nel suo intervento, sono stati fatti degli interventi sul patrimonio immobiliare dell'ente, in particolare interventi di efficienza energetica, soprattutto rigolto alle scuole. Io però volevo ricordare che all'inizio di questa legislatura ci siamo persi dei treni articolato, c'erano i finanziamenti legati alla cosiddetta scuola bella, scuola sicura e noi siamo stati i commiglienti comunali che non avevano la progettualità, ma avendo la progettualità abbiamo fatto richieste nell'ambito della provincia di Cuneo tra le più basse, tra tutte le città della provincia, cioè non abbiamo, abbiamo perso un treno, così come perdavamo il treno del Vento Terno, un altro finanziamento di conto capitale, e così come, non so se stiamo perdendo il treno dei certificati, dei titoli, dei certificati, scusate, dei titoli del CEC, i presidenti dei certificati di ANI, per tutte le opere di efficienza energetica che stiamo facendo. Per quanto riguarda, non sono state indicate nell'intervento, ma mi interessava anche fare, anzi questo lo farò dopo perché non ho tempo, chiedo scusa, per quanto riguarda invece la questione servizi. Si è detto in sostanza che i servizi rimangono invariati e c'è un'attenzione particolare nei confronti dei servizi alla cittadinanza. Io volevo contestare questa affermazione perché la realtà della città è che determinati servizi hanno subito uno scadimento, un decadimento della nostra città piuttosto importante. Parlo, perché l'ho citato in interrogazioni nelle volte scorse, della cura del verde, parlo, caso recentissimo, dello sgombero neve, nel trasporto pubblico continuiamo ad essere una delle, penso, uniche di città del mondo che non ha un servizio di biglietteria diffuso per il territorio e soprattutto quello che rimargo all'amministrazione che di fronte ai servizi che devono essere forniti all'utenza, alla cittadinanza, parlo della raccolta di rifiuti, parlo della cura del verde, parlo delle risistemazioni in seguito a interventi, per esempio dopo scagli eccetera, manca, e per la mia gestione degli impianti sportivi, manca totalmente la parte di controllo dei lente nei confronti dell'appaltatore, cioè lente appalta i lavori, nel caso per esempio la raccolta di rifiuti anche per cifra piuttosto considerebbe del bilancio. L'attenzione più grande del vente è rivolta non verso il controllo dell'espletamento del servizio, del corretto e completo espletamento del servizio, ma è rivolta al cittadino per verificare se il suo comportamento è sanzionabile o meno. Il caso della raccolta di rifiuti è esemplare. Avevo messo in evidenza i casi della raccolta mercataria, che dovrebbe essere differenziata, e infatti non lo è. Il fatto per esempio che c'è lo spazzamento meccanizzato, sempre nell'area del 20 settembre, che sono un'area corfida, che così non dovrebbe essere, dovrebbe richiedere dei ripresi. Il fatto che non esistano dei controlli su quali dovessero, quali siano le dotazioni dell'appalto oppure no. Quindi un atteggiamento, parliamo di visione strategica, quindi in ambito DUP dell'amministrazione, che non prevede un controllo rigoroso. E questo lo incontro in tutti gli abiti in cui mi sono dibattuto nell'affrontare il tema dei servizi erogati dal Comune in tutto. Fin dall'inizio, dalla Fondazione Politeana, da quando si finanzia, si finanziava ad esempio l'ente benefico della della Fondazione Politeana. Io penso che in questo senso si debba cambiare paradigma, perché il controllo sarebbe sicuramente, avrebbe due risultati, una parte il miglioramento dell'efficienza del servizio e dall'altro la riduzione dei costi. Riguardo alla Tari, c'è uno spostamento importante quest'anno nella ripartizione dei costi della Tari. Innanzitutto il costo relativo, il piano finanziario della Tari rimane variato. Quindi ciò che si è speso nel 2017 si stanza, si prevede spedere anche per il 2018. E quindi la diminuzione per le famiglie a cui lei faceva accenno, è dovuto a uno spostamento di carico, puramente allo spostamento di carico tra utenze dalle utenze domestiche alle utenze non domestiche. E questo punto merita una riflessione, lei diceva che questo spostamento ha una nota civile a 248 mila euro, lo spostamento totale. E accennava il fatto che nel momento in cui si è passati dalla Tari alla Tari è stata fatta una scelta, siamo in un periodo di crisi, nella riprodurazione della tariffa andremo a penalizzare le utenze non domestiche, non lo vogliamo fare, manteniamo la medesima pressione tributaria sull'utenze non domestiche. In questo modo si ricava una percentuale tale per cui non aggravi o aggravi solo limitatamente l'utenza non domestica. Ora, lei per motivare il passaggio a questo cambiamento parla di applicazione in forma integrale del metodo normalizzato. Giusto? Prima era un'applicazione non integrale, quindi parziale, con il ragionamento che facevate prima, ora applicazione integrale. Beh, non esiste l'applicazione parziale del metodo normalizzato. Quindi o la scelta fatta prima non era corretta, quindi non era corretta quella di prima, oppure non è quella di adesso. La regge non prevede prevede di applicare il metodo normalizzato, ma impone una ripartizione dei costi che sia razionale. Questa è letteralmente la richiesta della legge. Il fatto quindi di dire è finita la crisi, o sta finendo la crisi, e spostare 248 mila euro di carico da una parte, da un'utenza all'altra, non è una motivazione razionale, perché come faceva Ceno adesso lei con la testa che sempre parlavo, è chiaro che la crisi non è finita. Ma non ha detto che è finita la crisi? C'è verbale? No, 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 non ha detto che la crisi è finita, ma la motivazione per cui c'era la precedente ripartizione era la crisi. La crisi economica incopriva i centri produttivi e quindi per non compromettere le attività economiche sul territorio si faceva una scelta. Ora si fa una scelta che aggravia le attività economiche, ma la situazione è più o meno la stessa. ora qui, ripeto, quello che richiede la legge non è l'applicazione del metodo normalizzato, ma è l'applicazione di un metodo razionale, cioè che sia razionalmente spiegabile e quindi che la suddivisione, la ripartizione dei costi sia chiaramente dimostrabile e logicamente spiegabile. è da tenere presente che le tabelle che noi stiamo applicando e che voi proponete di applicare per l'applicazione del metodo normalizzato, ripeto, non esiste l'applicazione del metodo normalizzato ma sia, esiste l'applicazione del metodo normalizzato oppure no, l'unica possibilità che abbiamo è quella di ciostrarci su un range di coefficienti e quel range di coefficienti che non prevedeva il coefficiente fittizio che abbiamo usato prima da allora fino ad oggi. Ma questo metodo normalizzato utilizza delle tabelle i cui parametri sono stati stabiliti con legge del 1998, quindi quasi vent'anni fa. e quindi io penso che quanto state facendo in realtà sia in buona sostanza una pura mossa propagandistica che avviene, che arriva in un momento in cui noi più volte della minoranza abbiamo spesso critiche nei confronti del fatto che all'aumento della raccolta differenziata in questi ultimi anni, un buon 20%, non siano mai corrisposte, non siano mai corrisposte diminuzioni del gettito tributario richiesto alle detenze domestiche e non domestiche perché lì il vero punto, il punto nodale non è spostare il carico da una parte all'altra ma avere come obiettivo la riduzione dei costi, quindi efficienza, cosa che agli utenti di questo comune che sono dimostrati attivi e volenterosi non è mai stata riconosciuta. recentemente, che è un comune qua vicino, all'interno dello stesso consorzio sta riconoscendo 140.000 euro di diminuzione della Tali in generale per via dell'aumento della raccolta differenziata. Allora non abbiamo mai visto questa diminuzione. faccio un esempio chiaro anche di che cosa significa questo spostamento e di quanto possa essere corretta la situazione che voi proponete su questo momento. Uno studio professionale di 60 metri quadri andrebbe a pagare allo stesso modo il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti pagherebbe la stessa cifra un pochettino di più di un'abitazione di un nucleo familiare occupato da tre persone su 100 metri quadri. Uno studio professionale non produce organico, uno studio professionale non produce quasi nulla di raccolta differenziata, che sono le due voci di costo di smaltimento più importanti, produce rifiuti normalmente riciclabili in palli in pasto e in palli in carta. a fronte a fronte quindi di questo passaggio dell'apparto dell'apparto nel 2018 si sarebbe dovuto fare non un nero spostamento delle cifre, ma un'analisi seria della distribuzione dei costi nelle due macro voci, nelle quattro macro voci che richiede la legge. Non solo ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, ma ripartizione anche tra costi fissi e costi variabili, perché la Tari così è composta per tutte le utenze. Noi abbiamo delle voci nominali nella composizione della tariffa, scusate, nella composizione della ripartizione tra costi fissi nominati, e abbiamo una composizione tra i affari molto spostati sulla quota fissi, con delle voci che non sono riconducibili esattamente ai costi che abbiamo nell'apparto. Già solo agire in modo analitico in questo modo ci permetterebbe una più equa restituzione dei costi, perché l'obiettivo... ...al servizio di raccordi e sbagliamento dei fiuti. E la proposta che abbiamo fatto noi, che pensiamo che sia l'unica fattibile a livello nazionale, poi sposata da tutte le associazioni di categoria, per esempio la Confattigianato, è quello, e qua c'è un passaggio strategico mancante, è quello di andare a una tariffazione, a un sistema di tariffazione puntuale, perché è l'unico che è in grado di garantire una equa distribuzione dei costi, e quindi del tributo alle varie utenze. Dal punto di vista pratico ancora, questo spostamento di circa 248 mila euro, che è prospettato alle utenze domestiche, si è anche detto in commissione che normalmente ci porta ad essere allineati a altre realtà della provincia di Cuneo, che hanno percentuali simili alla nostra, percentuali che variano intorno al 40% per le utenze non domestiche e il 60% per le utenze domestiche. Ora, lei citava Don Milani, io cito la mia maestra delle elementari, più umilmente, che quando io e i miei compagni facevamo, diciamo, qualche cosa che non andava fatto, e la nostra giustificazione al rimprovero era, ma signora maestra è stato prima lui, oppure, ma lo fa anche lui, ecco, la maestra ci diceva, ma se lui si buttava dalla finestra ti saresti buttato anche tu? Cioè, se l'obiettivo è quello di una più equa ripartizione, allora bisogna lavorare per una più equa ripartizione, si guarda cosa fanno gli altri per capire cosa fanno, ma non è che se io applico il metodo sbagliato, così come fanno gli altri, sono o meno colpe o sono in una posizione più corretta se gli altri non lo facessero. Questa rimodulazione della tariffa, visto che citavo prima una città vicina, le città vicine per avere dei termini di paragone sulla ripartizione dei costi, sono andato per curiosità a prendere la ripartizione della tariffa Tari per utenze non domestiche della vicina città di Alba, che dal punto di vista commerciale sicuramente come attività, eccetera, ha un indotto anche molto più importante del nostro, soprattutto in certi ambiti. ecco, volevo prendere degli esempi pratici, con questa modifica la tariffa al metro quadro, euro al metro quadro, ad esempio per le scuole e circoli privati, eccetera, per la città di Bra passa 2,14 euro al metro quadro. Per Alba siamo, per quanto riguarda il previsionale del 2018, a 1,13, la metà. per quanto riguarda autorimesse, magazzini, noi siamo quasi uguali, siamo a 1,63, spicca la voce 4, cioè campeggi, impianti sportivi, distributori di carburanti, dove noi siamo a 2,43 contro i 2 euro al metro quadro di Alba, quindi il 20% in più. per l'autorimesse e i magazzini, noi siamo un 10% più alti con questa modifica. Sugli studi professionali che dicevo prima, abbiamo una tariffa al metro quadro di 4,86 euro al metro quadro, contro i 3,2 di Alba. Per i negozi di abbigliamento, siamo, e calzature, librerie, cartolerie, noi passiamo a 4,51 euro, contro i 3,54 euro. Per quanto riguarda edicole, tabaccai, plurilicenze, farmacie, noi siamo a 5,77, ad Alba sarebbero a 4,52. Per i ristoranti, immaginatevi il giro diverso d'affari che ci può essere tra la nostra zona, in certi casi la zona di Alba, noi saremmo a 17,4 euro al metro quadro, contro i circa 14 euro al metro quadro di Alba. Ora, quello che voglio dire è che questa ripartizione della Tari, non è detto che sia più giusta o meno, che fosse più giusta prima di adesso o viceversa, però si deve basare su un'analisi oggettiva, su un'analisi che ci riconduca a una più fedele ripartizione tra costi fissi e costi variabili, che ci riconduca, visto i dati che abbiamo, che parta, chiedo scusa, dai volumi di raccolta per i due tipi di utenza, e vedremo che probabilmente, a mio avviso, avremo percentuali di ripartizione molto più vicine a quello che c'era prima rispetto a quello che c'è adesso. Il punto è, non si fa uno spostamento a occhi chiusi, ma si fa uno spostamento, una ripartizione tariffaria, in base a dei ragionamenti, come impone la legge, razionali. Io penso che, visto che il nuovo bando, che partirà per l'inizio del nuovo servizio dal 1 gennaio 2018 di quest'anno, siccome sarà un'occasione di revisione del piano finanziario, questo nuovo bando ci deve dare la partenza per rivedere, rianalizzare il piano finanziario dell'Atari e modificare quello che eventualmente non va rispetto a quello che adesso abbiamo previsto per il previsionale 2018. Questo sempre per il principio di equità nei confronti di tutti gli utenti. Grazie. Grazie consigliere, è stato esattamente nei tempi. Quindi il dibattito continua. Consigliere Somaglia, prego. Grazie presidente, intanto approfitto per scusarmi per il ritardo e per ringraziare il sindaco per gli omaggi natalizi che ci ha fatto trovare molto graditi, soprattutto perché si parla di sport e di personaggi che hanno fatto la grandezza sportiva di uno sport molto particolare, ma che è molto sentito e praticato nella nostra città. Quindi grazie. Dunque diceva l'assessore che nella predisposizione del bilancio si è data centralità al DUP, ma non è una scelta, è un obbligo. Ormai la normativa prevede questo. E finalmente perché, se ricordate, se ricordo assessore, noi la prima volta che è stato presentato il DUP siamo stati decisamente critici, e avevamo denotato la mancanza di contenuti che invece poi abbiamo ritrovato negli anni successivi e lo abbiamo anche detto in questa sede. Il lavoro che è stato fatto è stato, come al solito, puntuale. Diceva l'assessore che si è cercato di limare ancora una volta le spese correnti, ci ha spiegato le motivazioni, i numeri parlano chiaro. Per fortuna si è fermata, se non invertita, la diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato. Però il fatto di cercare di garantire i servizi a pari, l'ha già detto qualcuno che mi ha preceduto, non è così dire, mi riferisco in particolare ad alcuni servizi di cui abbiamo parlato molto, anche nelle ultime riunioni delle commissioni ambiente e servizi appaltati in fase di lavoro per la predisposizione del nuovo bando di raccolta rifiuti. Ed in particolare allo spazzamento meccanico delle vie cittadine, che in alcuni casi è non solo carente, ma addirittura inesistente. Un accenno, se non altro, per ciò che è successo nelle ultime settimane nella nostra città riguarda il piano neve, ma in particolare la pulizia dei marciapiedi, che è vero che le condizioni atmosferiche sono state particolarmente rigide e addirittura è stato cognato un nuovo termine, il gelicidio, qualcosa del genere. Però veramente, soprattutto in alcune zone, anche centrali della nostra città, è stata messa a rischio, e non poco, l'incolumità dei nostri concittadini. Io stesso ho avuto qualche problema di deambulazione. Ma questo non interessa la SILDE. Questo è per rimarcare che è vero che le difficoltà economiche ci sono, ma veramente, ed in alcuni casi, su servizi che non richiederebbero uno sforzo economico così importante, qualcosa in più andrebbe fatto. Io più volte ho detto al nostro Assessore che si poteva avere più coraggio per l'accensione dei mutili. Questa volta qualcosetta in più c'è, e a mio avviso per altre situazioni si sarebbe potuto comunque ricorrere ancora all'accensione dei mutui. Per esempio, ci sono diverse zone della nostra città che richiederebbero la sistemazione dei marciapiedi, quindi per esempio nella zona di Piazza Carlo Roberto verso Piazza Roma e in altri posti. quindi con investimenti non eccessivamente alti e con magari con l'accensione di qualche piccolo mutuo si sarebbe potuto correre i ripari su alcune situazioni che, se non mi sbaglio, non sono presenti nel piano triennale dei lavori. Anche in considerazione che il 2018 sarà l'anno che ci porterà verso il termine di questa consigliatura e quindi poteva da parte dell'amministrazione esserci un impegno maggiore in quel senso, senza lasciare nessun problema dal punto di vista di equilibrio finanziario ai posteri, perché i margini ci consentono di avere qualche possibilità in più. Un'altra considerazione rapida che mi premeva fare, riprendendo un'interrogazione che abbiamo fatto qualche settimana fa in Consiglio, ed è un argomento che è stato toccato dall'assessore, riguarda i debiti commerciali. Allora ancora qualche giorno fa, se non mi sbaglio una decina di giorni fa, la stampa riportava nella parte della cronica della provincia di Cuneo le tempistiche di pagamento delle sette sorelle e degli altri comuni della provincia. E ahimè, ancora una volta, il nostro comune era la maglia nera. Quindi anche su questo sono vere le argomentazioni che ci dava l'assessore, ma se i dati sono quelli, sono dati inconfutabili. Come è vero che non ci sono problemi, e tantomeno non sono problemi economici rilevanti, quelli del ricorso all'indicipazione di cassa, ma se la Corte dei Conti e per fortuna ha sottolineato la regolarità, come diceva il Presidente del Consiglio, dei bilanci, ma se evidenziava questo squilibrio sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, per qualche motivo lo avrà fatto. Benvenga, benvenga, l'aumento del Fondo di Solidarietà. Se non ricordo male, è in aumento di circa 100.000 euro. E, ripeto, benvenga, lo accogliamo con favore. Ancora una volta, e lo riprenderà meglio l'amico consigliere Elena, dobbiamo sottolineare che il capitolo che riguarda le violazioni del codice della strada fa un po' la parte del leone nei capitoli delle entrate, addirittura aumentato da 1.430.000 a 1.550.000. E ancora una volta sottolineiamo che il dubbio che venga utilizzato per fare cassa, ma che non sia un sistema di educazione al rispetto del codice della strada, ma sia quasi un utilizzo repressivo di questi strumenti. e allo stesso tempo notiamo un aumento sensibile delle spese di postalizzazione per l'incasso di queste sanzioni. Un altro elemento che ci è balzato è il fatto che negli ultimi due anni, forse o nell'ultimo anno, sono stati fatti e benvengono dei lavori di riqualificazione delle scuole materne e scuole elementari, di lavori di riqualificazione energetica, però allo stesso tempo ci sarebbe da aspettarsi una riduzione dei capitoli di spesa che riguardano il riscaldamento di questi plessi, ma vengono mantenuti invariati. Non so se per precauzione o perché non ci si aspetta un risparmio energetico. E allora la funzionalità di questi lavori viene meno. Con piacere abbiamo accolto la presenza, l'istituzione di un capitolo che riguarda, avevamo sollecitato un intervento in fase di consuntivo della sistemazione della pista elettrica e la costruzione di un campo da calcio sintetico. Quindi allo stesso tempo però rileviamo una diminuzione dei contributi alle associazioni sportive che qualcuna gestisce in piante importanti della nostra città e in generale una diminuzione di ben 5.000 euro dei capitoli relativi alle attività sportive. Allora se è vero quello che diceva l'assessore che scusate ma mi sono preso un po' di appunti in questi giorni che come al solito sono molto disordinato. Allora se è vero che le manifestazioni e la cultura sono un motore economico e finanziario per la città è altrettanto vero che le attività sportive lo sono parzialmente ma a mio avviso lo sono assolutamente dal punto di vista sociale. perché chi permette a tanti dei nostri ragazzi e con piacere ho visto per esempio la festa di un'associazione sportiva che si occupa di calcio dove ben 300 erano i bambini che frequentano le loro attività ludico-sportive ecco è rilevante per quella società lì come per tutte le altre che lodevolmente svolgono in città questo tipo di attività e penalizzare penalizzare quei contributi questo tipo di attività ci sembra poco edificante. un accenno rapido al discorso della Tari l'ha già evidenziato il consigliere che ne ha preceduto è vero che bisognava porre in qualche maniera mano a una redistribuzione dei paesi tra utenze domestiche e non domestiche ma è altrettanto vero che come è stato detto ahimè la crisi non solo non è finita ma continua a appesantire in maniera forte e determinante i conti economici delle aziende e dei liberi professionisti che operano nella nostra città ma come negli altri centri seppur minimi gli aumenti di riflesso hanno un peso ripeto sui conti economici di queste attività notevole ecco l'ultima cosa che mi sembra da anzi ancora due cose che volevo così sottolineare sono una e ringraziare che finalmente dopo tre bilanci che i nostri gruppi hanno presentato un emendamento per l'istituzione di un fondo l'assessore seppur in maniera leggermente diversa ha finalmente stanziato un capitolo che dovrà essere integrato con il lavoro del tavolo delle attività produttive so che è stato presentato un documento alle aziende braidesi che ahimè non ha avuto un largo successo probabilmente la composizione del del questionario era un po' troppo come dire che articolata per cui le aziende che oggi sono impegnate su altri fronti a volte preferiscono lasciare un cassetto e non rispondere a certe cose quindi a mio avviso ci sarà a nostro avviso ci sarà da tornare su questo argomento però deve essere in qualche maniera deve essere in qualche maniera incentivato questo questo sforzo che è stato fatto da parte dell'amministrazione anche perché i dati sull'occupazione rilevati dal centro per l'impiego sono ancora dati non dico allarmanti ma che richiedono comunque un certo tipo di preoccupazione di intervento in BRA a fine 2016 coloro che erano iscritti alle liste di collocamento erano circa 3.700 persone a cui vanno sommati tanti giovani e meno giovani che magari il lavoro l'hanno perso e che magari non ricorrono neanche più all'iscrizione al centro dell'impiego perché risposte ahimè ce ne sono poche e allora seppur le iniziative che possiamo mettere in cantiere sono iniziative marginali ma a nostro avviso il significato è veramente importante l'ultima cosa ritorno dicevo prima il 2018 è l'anno che ci porterà verso la conclusione della consigliatura a noi piacerebbe avere ancora qualche notizia sui lavori di internamento della stazione ferrovaria per eliminare definitivamente questa annosa situazione che sempre di più divide la città in due e crea notevoli problemi anche di ordine viario grazie grazie a lei consigliere Somalia direi che sarebbe opportuno ci fossero adesso altri interventi prima della replica dell'assessore così procediamo in modo ordinato poi alle controrepliche eccetera eccetera queste sono un'indicazione ovviamente se non ci sono interventi posso intervenire io a cominciare a fare qualche considerazione innanzitutto ringraziando l'assessore per il lavoro preciso e puntuale che ha svolto nell'illustrare il bilancio e in tutto il lavoro preparatorio di queste settimane di questi mesi che ha coinvolto ovviamente come dicevo prima per un'altra questione anche tutti gli uffici un bilancio di un comune come il nostro è circolamente una partita complessa complicata che fatalmente la logica dei numeri sia pur importante non può esaurire nella sua totalità gioco forza bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti quelli più importanti o quelli che a ciascuno di noi sembrano i più importanti i più rilevanti tralasciarne anche ad altri ma cercando di fare una sintesi a me sembra anche grazie alle parole dell'assessore che ha illustrato punto per punto mi pare ancora una volta di poter dire di essere di fronte ad un bilancio che mette insieme la razionalità e al tempo stesso la progettualità razionalità secondo il mio modo di intendere queste problematiche questi capitoli fa sempre sinonimo con responsabilità responsabilità verso il presente ma soprattutto verso il futuro razionalità responsabilità che sono anche sinonimi di credibilità ci sono stati alcuni importanti consolidamenti diciamo così negli anni le manifestazioni la cultura i percorsi partecipati la presenza a livello di informazione di consultazione di tanti e tante nostre concittadine e nostri concittadine certamente un bilancio per essere credibile razionale e responsabile deve tenere conto di quelle che sono le cornici nelle quali gioco forza si vanno ad inserire tutte le scelte di contabilità sei milioni di trasferimenti in meno nel giro di alcuni anni ai quali vanno aggiunti altri 3-4 milioni di euro di mancati introiti per motivi che non dipendono dalla volontà del nostro ente locale ma più in generale dagli enti sovraordinati costituiscono una premessa ineludibile senza entrare ovviamente nel merito perché non ci compete se non ci compete a livello però molto molto più generale della responsabilità o dell'imputabilità di queste scelte a Tizio o a Caio o a Sempronio questi sono i dati la realtà dei fatti è tale a fronte dunque di uno storico di una storica riduzione dei trasferimenti far quadrare un bilancio che io sottolineo alcuni aspetti dal punto di vista delle politiche sociali mantiene inalterate le tariffe dei servizi a domanda individuale che continua ad avere come punto di forza le agevolazioni su determinate fasce di reddito a proposito dei servizi a domanda individuale agevolazioni per le quali tra le sette sorelle siamo i primi posti per capacità di venire incontro alle esigenze di chi per vari motivi non ce la fa impostare un bilancio nel quale sono state spostate dalle funzioni di politiche sociali a quelle delle attività produttive 20.000 euro come fondo occupazione venendo incontro anche alle esigenze e alle giuste aspettative di parte o di tutta la minoranza degli anni passati un fondo ovviamente da allargare a chi soggetti vari fondazioni ditte associazioni e così via condivida questa necessità di contribuire a implementare questa che non deve essere ovviamente una mera misura di servizio sociale intesa nel senso deteriore o tradizionalmente di assistenzialismo ma che voglia essere un contributo per rimettere le persone in grado di camminare con le proprie gambe ecco mi paiono questi alcuni punti di forza di questo bilancio di previsione del 2018 un bilancio ripeto che sa unire una giusta considerazione della realtà con una altrettanto credibile razionale capacità di guardare un po' oltre il nostro immediato orizzonte anche cronologico ma che parla anche poi a favore del futuro mi pare che le premesse perché il nostro comune continui negli anni una pratica di buona amministrazione finanziaria di buona contabilità ci siano tutte ripeto mi sono soffermato su alcune questioni alcuni punti senza entrare ovviamente nei particolari di questo corposissimo documento e di tutti i suoi allegati per questo motivo io posso anticipare il voto favorevole della maggioranza senza ancora però ovviamente fare dichiarazione di voto che poi potranno poi altri colleghi dopo di me grazie grazie consigliere Ambrogio prego buonasera a tutti intanto anch'io volevo ringraziare il lavoro svolto dall'assessore e dagli uffici per la preparazione di questo documento che è veramente completo ed esaustivo e oltre alla parte descrittiva scende poi nel dettaglio in tutti i numeri e in tutti i vari capitoli molte cose sono state già dette e quindi volevo soffermarmi su alcuni punti che forse sono stati solo parzialmente toccati intanto in questo bilancio le previsioni del prossimo anno non c'è nessun inasprimento fiscale è vero è vero che è un vincolo ma è comunque anche una volontà del comune di non andare a come dire mettere le mani nelle tasche dei cittadini anzi per quello che riguarda il capitolo della Tari che è stata diciamo affrontato la scelta di spostare una parte dei costi dalle famiglie alle attività produttive è anche per cercare di allinearsi un po' riguardo quello che fanno i comuni a noi vicini ma soprattutto l'evidenza è che comunque per quello che riguarda il non domestico una parte di queste spese potranno essere portate in deduzione dei costi dell'attività stessa e quindi questo è comunque un inasprimento meno gravoso e poi c'è il anche il fatto che è stato comunque raddoppiato il fondo che verrà messo a disposizione per chi vorrà chiedere uno uno sgravio su riguardo questa a questa imposta riguardo al discorso del futuro appalto che entrerà in vigore nel 2018 i rilievi che sono stati fatti anche questa sera sul discorso della premialità o meno riguardo la virtuosità dei cittadini per quello che riguarda la raccolta differenziata cioè c'è la volontà da parte di questa amministrazione di fare il punto tra sei mesi una volta che il nuovo appalto sarà entrato in vigore e se ci saranno come ci auspichiamo dei risparmi questi andranno poi a essere distribuiti a favore degli utenti quindi insomma questo non è una scelta non fatta ma è semplicemente prudenzialmente spostare in avanti questo discorso perché appunto dovremo avere dei dati dei dati intanto il nuovo appalto partirà con con l'intenzione di questa amministrazione di avere un costo inferiore ci sono altri altri diciamo capitoli che sono stati appunto già toccati dai miei colleghi precedenti precedentemente e tutta la parte dei numeri nel senso che tutto quello che riguarda il minore indebitamento del nostro comune in questi anni che è un dato di fatto pur avendo fatto molti lavori in città che sono comunque sotto gli occhi di tutti quindi molte cose sono state fatte e l'indebitamento è diminuito il trasferimento le cifre che lo Stato pagava trasferiva agli enti locali negli anni sono diminuiti tantissimo per fortuna quest'anno si sta interrompendo questa diminuzione anzi ci sarà probabilmente un centomila euro in più e quindi di questo ne siamo tutti soddisfatti è stata fatta in questi anni una spending review molto seria quindi sono stati visti tutti i capitoli quindi questo bilancio il lavoro di questo previsionale è frutto appunto del lavoro di tutti i vari uffici ognuno per la propria competenza e comunque tutti per arrivare ad un unico scopo che è quello di utilizzare le risorse che si hanno al meglio anch'io mi riservo ancora di dare poi ovviamente do un giudizio positivo su questo previsionale e magari non non sarò io che farò la dichiarazione di voto per il mio gruppo ma comunque il diciamo il il giudizio è ampiamente ampiamente positivo ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno lavorato grazie grazie a lei consigliere Ambrogio consigliere Elena prego sì grazie presidente anche io mi scuso per il ritardo ma purtroppo ho un problema con problema quindi sono arrivato in ritardo e me ne scuso ringrazio prima di tutto i lavori fatti il lavoro fatto dall'assessore e dagli uffici competenti per la redazione del bilancio che so che è sempre un lavoro difficile niente farò proprio soltanto due due annotazioni in quanto è stato già detto dal mio copogruppo praticamente tutto quello che c'era da dire io volevo soltanto soffermarmi sul discorso del piano triennale delle opere pubbliche in quanto questo è basato forse non in percentuale però sull'elenco dei lavori che ci sono sulle entrate derivanti da onero di urbanizzazione in termini di cioè io ho contato ci sono 22 voci di intervento 17 sono finanziate da onero di urbanizzazione certo in percentuale è più grossa perché le altre 5 voci sono quelle non non finanziate con onero di urbanizzazione sono la riqualificazione energetica della scuola Gino Lagorio e la Bocciofila che è mutuo anche qui con proventi edificatori e regione la riqualificazione dell'ex matatoio di via Ballerini anche qui finanziato con contributi statali alienazioni contributi regionali su questo progetto forse l'abbiamo già chiesto anche in commissione lavori pubblici vorremmo poi magari se è possibile sapere di più su quale destinazione d'uso questo questo se c'è già un progetto io presumo che se è stato messo nel piano triennale qualche idea da parte dell'amministrazione ci sia e quindi penso che sia come minoranza magari essere poi informati sulle idee che ci sono su questo intervento poi c'è un altro intervento che è quello sui campi sportivi poi c'è l'intervento sulla copertura della ferrovia che ci fa piacere che questo venga riproposto e anzi in commissione lavori pubblici è stato definito dall'assessore un intervento basilare ma lo pensiamo tutti io ricordo che questo progetto tanto così per memoria storica nasce da giunte precedenti chiaramente con con la collaborazione molto fattiva del sindaco attuale che allora era consigliere era assessore regionale mi scusi e dal consigliere regionale guida e poi c'è il quinto intervento che è l'intervento sulla chiesetta da Madonnina di Pollenzo che è finanziato con altri enti o privati sicuramente alcuni degli interventi proposti nel triennale presentato sono condivisibili in particolare sulle manutenzioni varie sulle delizie scolastiche sulle manutenzioni stradali diciamo sull'ordinario e certamente da parte nostra tutte le azioni le azioni o prevedimenti che verranno adottati verso la risoluzione e esecuzione di questi saranno da noi valutati attentamente e presi in considerazione per essere eventualmente supportati e condivisi singolarmente come ho già detto prima il piano degli investimenti noi lo riteniamo abbastanza ordinario ci sono sì questi interventi abbastanza di rilievo che però appunto qualcuno in particolare da capire nel merito poi cosa si vuole fare poi chiaramente queste sono questioni di scelte noi avessimo dovuto fare degli interventi abbiamo già citato diverse volte un intervento è chiaramente il nodo quello della stazione e poi anche quello molto importante secondo noi il discorso dell'illuminazione pubblica degli svincoli della tangenziale abbiamo richiesto più volte anche il consigliere all'Asia l'aveva segnalato effettivamente sta diventando veramente visto che la tangenziale per fortuna è molto usata e i tre svincoli della tangenziale quello su via Piumatti via Falchetto e al Bandito stanno veramente nelle ore notturne diventando pericolosi perché sono completamente privi di illuminazione e quindi con possibili inconvenienti altre cose è stato parlato ecco il capitolo ad esempio del dell'Imu qui abbiamo è stata istituita la commissione tecnica per quanto riguarda il discorso delle aree edificabili per quanto riguarda la revisione dei valori dei terreni come più volte avevamo richiesto è stato un passo in avanti alla data attuale però mi sembra che la questione si sia un po' arenata certo era normale che la nostra richiesta di ricomporre la commissione visto che era qualche anno che non si rivedevano più i valori delle aree era chiaramente per una ratifica verso il basso di questi valori perché così come recita proprio la legge sul Limo quanto dice che i valori devono essere congrui e allineati con quelli attuali del mercato e per la miseria in questi 5-6 anni la crisi del settore edilizio immobiliare purtroppo si è fatta sentire e questi valori non sono più congrui abbiamo il segnale appunto anche altri segnali un segnale molto consistente è l'introdito lo vediamo dall'introdito degli oneri di urbanizzazione che stanno diminuendo abbiamo il segnale da parte delle associazioni di categorie che lamentano la crisi di questo settore abbiamo il segnale da parte di tutti i colleghi professionisti che hanno un po' il polso della situazione e se non si riesce ad avere da quello che ho capito in commissione probabilmente si dice ma sì dobbiamo avere però delle pezze giustificative e se non si riesce ad avere queste pezze giustificative cioè intendo atti notarivi perizie attuali è proprio perché il mercato è paralizzato e quindi non si muove per niente e quindi i prezzi perché i prezzi sono calati a dismisura quindi noi speriamo che si possa continuare a vedere in sede di commissione a cercare di vedere questa situazione che venga presa in considerazione perché alcuni comuni anche con qualche provvedimento l'hanno preso hanno tagliato abbastanza specialmente su quelle aree destinate a PEC o sue cioè con strumenti urbanistici che sono più penalizzati e che saranno di difficile attuazione con la crisi che prima sentivo parlare di crisi la crisi non è finita anzi cioè continua purtroppo in questo settore e quindi stiano pur tranquilli i paladini del consumo del suolo che se continua così il suolo non verrà consumato sicuramente ma purtroppo questo porterà per le amministrazioni in quanto dall'incasso degli oneri di urbanizzazione traggono una fonte di finanziamento e quindi se questo non prenderà non avrà seguito come lo vediamo già adesso avremo sempre una minore entrata da questa fonte di finanziamento quindi oltre questa diminuzione di questa fonte di finanziamento come ha spiegato bene l'assessore ci sono i finanziamenti dello Stato che sono purtroppo in maniera ragualdevole diminuiti allora ci sono le alienazioni abbiamo visto purtroppo le alienazioni che fino hanno fatto per il nostro comune non siamo riusciti a portarne in porto nessuna e quindi per quanto riguarda il discorso dei finanziamenti ben vengano per carità i discorsi dei finanziamenti altri finanziamenti statali o regionali i bandi però le fonti principali sono queste quindi bisogna cercare di andare sperando che questa situazione venga a cambiare dal punto di vista della crisi soltanto più un flash sul colleghi che mi hanno preceduto scusate che adesso qui volevo fare anche io qualcosa sul ho preso due appunti sul discorso Tari che è già stato ben detto dai colleghi che mi hanno preceduto ha spiegato bene l'assessore non l'ho sentito però l'ho letto ha spiegato bene che lo spostamento della quota variabile dal 75 al 55 barra 60% sull'abitativo c'è una diminuzione che dovrebbe portare a una diminuzione della Tari sulla parte abitativa e un incremento invece su quella dell'attività commerciali certo è un po' cane che si morda la coda però c'è la quota questa quota mi sembra di 30.000 euro che dovrebbe andare a soperire questo aumento speriamo che basti e speriamo e concordo con quanto ha detto il consigliere o la consigliera non so come ambrogio sul discorso della di quanto è stato detto per il nuovo appalto speriamo perché l'obiettivo principale secondo del nuovo appalto oltre al discorso di migliorare i servizi dal punto di vista delle raccolte e soprattutto anche dell'igiene urbana e quindi quello che abbiamo detto in commissione soprattutto sulla pulizia e l'igiene con una migliorazione degli spaziamenti dei lavaggi ma secondo noi l'importante obiettivo deve essere veramente quello di ridurre la Tari per tutti magari con sistemi di premialità magari se si avranno come ha detto la consigliera Amrogio sul discorso dei risparmi dagli appalti così come è successo ad esempio per Alba che ha risparmiato e di fatti c'è stato un discorso di diminuzione dal punto di vista della della Tari pertanto speriamo che questo sistema funzionerà anche con l'introduzione appunto del sacchetto prepagato così come c'era già stato spiegato quando abbiamo approvato il regolamento e speriamo appunto che aumenti il discorso della raccolta differenziata in modo che si vada verso veramente verso una una via di risparmio da parte dei cittadini su questa su questa tassa che deve essere veramente così non andare in un senso di contrapposizione verso l'abitativo il commerciale perché poi veramente diventa diventa poi anche un po' così una cosa un po' non molto comprensibile anche dai cittadini perché tutti fanno gli sforzi per cercare di differenziare qualcuno si vede aumentare qualcuno si vede diminuire e quindi secondo me bisogna veramente cercare di andare verso una parificazione barra diminuzione della tariva verso tutti i cittadini con questo concludo il mio intervento e ci sarà poi il mio gruppo magari a fare la dichiarazione di voto grazie grazie lei consigliere grazie Grazie. Consigliere Ferrero, prego. Grazie Presidente, scusate la voce ma sono reduce di un raffreddore notevole. Dopo aver ascoltato l'esauriente e dettagliata presentazione dell'assessore, che ringrazio per l'amore del lavoro che ha fatto in quest'ultimo mese in particolare, e ringrazio anche con lui tutti i dirigenti e gli uffici, nonché i componenti della Commissione Finanza e Tributo che si sono riuniti non so più quante volte. Ecco, dopo aver sentito, seppure in forma bignami, anche alcune note sulla nota di aggiornamento del DUP, che traccia la strada sulla quale obbligatoriamente muoversi nel dettagliare i vari capitoli di bilancio e l'ancoraggio di questo al documento di programmazione di inizio mandato, rimarcando nella conseguenzialità e il collegamento. Mi pare che sia proprio una serie di passaggi molto razionali. Questa centralità del DUP, specialmente, rimarco l'ultima lettera della cronismo, la P, programmazione. Partirei di lì per qualche ragionamento, provando a seguire le numerazioni delle proposte di deliberazione, perché questa volta affermo che mi trovo una certa difficoltà perché avere assieme dieci proposti di deliberazione e trattarle in un tutt'uno che ha una sua logica, però ha una grossa difficoltà a intervenire in quanto se alcuni passaggi fossero fatti una per una si potrebbe essere più puntuale. Quindi non resta che saltellare un po' da una parte all'altra. E quindi partirei di lì per qualche ragionamento, provando a quasi a seguirne la numerazione di queste proposte di deliberazione. Quindi parto proprio da quella del DUP. Cosa dire ancora di più e di più dettagliato sul DUP? Più di quanto sia scritto sul DUP. C'è in esso un dettaglio di analisi e di programmazione che, per dirla con una battuta, quasi quasi si potrebbe inserire pilota automatico per la stesura di bilancio. È talmente chiaro tutti i passaggi di DUP ed è talmente chiaro che i capitoli di bilancio devono essere per forza ancorati che c'è quasi una certa automaticità. In questo DUP ogni capitolo, ogni missione è quasi vivisezionato. In esso se ne rimarca tutte le criticità che ci sono e ogni volta è la proposta di superamento di queste criticità. Con la stesura di questo DUP, credo, e qui è della relativa notte di aggiornamento, credo si sia superato brillantemente lo scotto dell'apprendistato della prima stesura di due anni fa, che tutti abbiamo ammesso a essere la prima volta un po' vuote di contenuti. Ecco, questa volta tutto si può dire, meno che non sia piena di contenuti, piena zeppa di contenuti. e questo adesso mi pare che questo strumento sia uno strumento prezioso al quale fare costante riferimento. Nel DUP e nella proposta di bilancio alcuni cenni più puntuali. Partirei da alcuni dati impressionanti circa la disponibilità finanziaria con le quali fare i conti e sono stati messi sul video ne ribadisco ancora perché le ritengo proprio fanno una certa impressione pensare che dal 2009 ad oggi ci siano oltre 5 milioni di trasferimenti in meno dallo Stato. Come si fa? Come si fa? a fronte di una serie di spese, di costi che sono praticamente fissi. Ancora, oltre a questi 5 milioni e mezzo di trasferimenti in meno, non dico crollo, ma un bel abbassamento della quantità degli oneri di urbanizzazione o un altro bel milione in meno e poi ci sono tutta una serie delle spese fisse che sono già tutte state rimarcate. Ecco, a questa situazione credo che il bilancio presentato, test e presentato non bisogna suonare le trombe ma ritengo si possa dire tranquillamente un bilancio dignitoso dignitoso nelle ristrettezze economiche nelle quali ci troviamo. Qualcosa, qualche dato, qualcosina sugli interventi in conto capitale che vorrei rimarcare su quelli previsti dal triennale che, tra l'altro, il consigliere Elena ha già citato e rimarcato. Io rimarcherei e farei notare che questa volta, nel 2017, avrete tutti notato un minore investimento nella parte centrale della città con qualche investimento che comincia ad allargarsi un pochettino e credo che nel 2018 si debba continuare verso zone in cicimpio periferiche dei quartieri e delle frazioni. Quindi l'intervento a Falchetto credo sia un esempio di esternalizzazione quasi rispetto al centro di questo tipo di investimenti. Riguardo alla copertura del quartolotto della ferrovia è stato ripresentato già l'anno scorso l'avamo presentato quest'anno è ripresentato in modo molto più dettagliato con un progetto più preciso con il primitivo di spesa molto dettagliato e speriamo che questa sia la volta buona e si possa coprire questa seconda parte portando i parcheggi a oltre 100 i parcheggi possibili. qualcuno ha fatto notare un po' la questione stazione ecco sta aggiungendo al test sta aggiungendo al termine i lavori di restyling complessivo sia la parte i lavori tecnici che sono quelli dei marciapiedi che tutti avete visto sia il primo e tutti gli altri che vengono sono stati rialzati i tre ascensori e il nuovo sottopasso tutto completamente rifatto i tre ascensori che quindi permettono di andare su qualunque marciapiede a qualunque portatore di handicap avrà l'ascensore che lo porta dal piano piano campagna diciamo dal primo binario al superamento dei binari e portarsi al secondo e il terzo marciapiede un lavoro tra l'altro che è costato circa 4 milioni nei quali hanno operato hanno lavorato ha operato una ditta della zona e quindi con tutte maestranze del territorio quindi è stata anche una buona occasione di lavoro per il territorio su questo colgo anche l'occasione per estendere l'invito a tutti i consiglieri per il giorno 25 si sarà la presentazione ufficiale di tutti questi lavori e l'invito il 25 gennaio è Natale il 25 gennaio questa inaugurazione e quindi è un invito che anche il direttore di RFI estende alla cittadinanza poi ancora ecco è stato ancora fatto notare la questione l'annosa questione passaggio livello direi che per certi aspetti la cosa per fortuna sta ridiventando un po' di più all'ordine del giorno anche da parte delle ferrovie che stanno toccando con mano che mancanza o infrastrutture non adeguate alla mole di servizio che sta è venuto fuori con SFM fino ad alba stanno toccando anche loro con mano che bisogna fare degli interventi tecnici altrimenti questo servizio stenta a reggere abbiamo visto il mese di dicembre è stato quasi drammatico tutti i giorni c'era una è vero che c'è stato il freddo c'è stato una pioggia particolare che ha fatto gelata che ha fatto praticamente attorno a tutti i file quasi un tubo di rame che non si riuscì neanche più a captare corrente però insomma la neve c'è sempre stata i treni quelli vecchi forse andavano andavano di più però ecco legavo sta questione che uno dei motivi di queste difficoltà anche di regolarità sono le ferrovie finalmente ammettono e mettono anche nel rosubianco con tutta la statistica di quanti sono stati i guasti di questi passaggi a livello in questi ultimi due anni la quantità di ritardi che ci sono stati in numero e in minuti se pensate che da il nostro tratto che ci interessa da Carmagnole da Alba a Carmagnole ci sono 38 passaggi di livello ognuno ha due apparecchiature elettriche e quindi soventissimo queste robe si guastano e quindi è finalmente intenzione delle ferrovie di cominciare di cominciare a sopprimerne un po' partendo probabilmente dai più piccoli dai più dai meno importanti però che creano lo stesso disagio come quelli grandi e quindi c'è un progetto al quale ha chiesto anche la collaborazione dell'amministrazione di soppressione di passaggi a livello in questo contesto abbiamo risollecitato che ferrovie mettessero tra i primi questo intervento di stazione e sollecitando che anche da parte loro ci sia un sostanzioso contributo per questa soppressione ma anche per i ritorni che ne verrebbe ad avere vedremo se queste sollecitazioni fatte avranno un seguito perché lo ricordo ma l'avevamo anche qui detto pubblicamente l'avevamo anche proiettato che nel costo complessivo di quel progetto della montare dei 45 milioni ben 10 milioni erano dovuti a lavori che le ferrovie dovevano fare in prima fase di smantellamento di tutto l'esistente rotaie fili impianti e quant'altro dopo dopo aver interrato il tutto rifacimento di nuovo di tutti questi binari e tutto quanto per un ammontare di circa 10 milioni allora abbiamo sollecitato presente il sindaco dicendo e cominciato a dare voi il buon esempio mettendo voi questa questa parte di lavori a vostro carico e sarebbe una prima somma recuperata con la quale ci si rapporterebbe più facilmente con le parti politiche delle quali dovranno venire i finanziamenti ecco su questa parte chiuderei lì poi mi diventa difficile andare avanti sulle altre proposte di deliberazione su quella riguardante la Tari vorrei dire due cose uno c'è stato da parte di un consigliere che ha lamentato che l'ho segnato qui da qualche parte ecco che l'invito a procedere assieme ai lavori di commissione per l'approntamento delle linee guida del nuovo bando ha lamentato che sia stato piuttosto formale e non concreto mi permetto questa volta di dissentire nel senso che le commissione sono state parecchie si è entrati nel dettaglio si è sviscerato tutti i punti che potevano riguardare le linee guida quindi non credo che questa osservazione in questo caso ci stia riguardo poi alla questione della della tari non mi addentro nel tecnicismo a quale è stato fatto riferimento per questo spostamento di di tariffe dalla parte diciamo delle famiglie a quello delle imprese che detto proprio in parole semplici comporterebbe per le utenze singole per le famiglie una diminuzione del di circa il 10% sarà poco credo però che sia un gran bel segnale di riconoscimento anche del lavoro dell'impegno che tutte le famiglie hanno messo permettendo di portare la percentuale di racconte differenziata al punto dove è arrivata credo che questo primo debba possa essere il primo segnale di questo riconoscimento alle famiglie e che a partire dall'anno prossimo magari riservando i proventi i previsti quel che si si augura avvenga nel secondo semestre con con la palta del secondo semestre quel che si possa risparmiare possa essere dedicato in prima battuta a coloro che in questo momento ne hanno un aggravio un altro ancora adesso vattela trovare quale sia la proposta di deliberazione sempre riguardo sempre riguardo all'Atari ma se non la trovo la dirò dopo nel senso che ecco la proposta di deliberazione 13 del regolamento che disciplina la l'IUC e in particolare quindi la l'Atari ecco non sto parlando di emendamento sto semplicemente dicendo di la richiesta di verificare se in questo regolamento non ci sia un'incongruenza tra due articoli 43 e 45 agli articoli 43.12 rispetto e 45.13 da questo mi pare che derivino e lo stanno lamentando per alcuni cittadini parlo di neo famiglie quindi di sposi parlo di figli che lasceranno la la casa materna e vanno a vivere da solo che il combinato di questi due articoli comporti che l'Atari da queste persone venga pagata due volte ancora quando erano nella famiglia e di nuovo a nuovo per la nuova famiglia che vanno a creare in altra sede non so quale sia la 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 questo però c'è un'affermazione a monte quindi nell'articolo precedente che dice la tassa decorre per il tempo per il quale si occupa primo e decorre dal momento che si mette i piedi nell'alloggio e termina al momento che si va via ecco queste due affermazioni confliggono con quella che dice si il conteggio viene fatto ai presenti nell'alloggio il primo gennaio dell'anno e fino all'anno dopo quindi il figlio si sposa ad aprile la madre padre pagano la 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 per tutto l'anno e lui ce la paga nel nuovo alloggio non so quale diavoleria sia che ha portato a questo resta il fatto che concettualmente mi pare che qualche qualche tacun bisognerebbe mettergli a questa situazione lascerei lì vi ringrazio grazie a lei consigliere grazie a lei se non ci sono interventi l'assessore deve ancora intervenire per la replica mi pare che tutti i gruppi no non tutti i gruppi si sono espressi a questo punto io farei parlare l'assessore fogliato e poi proseguiremo prego assessore grazie tocco solo alcune cose per rispettare 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 i tempi due aspetti meno salienti meno salienti e poi entro più sull'aspetto della Tari beh prima parlo della commissione io sono partecipato devo dire pur con l'assenza si diceva prima però devo dare atto che la commissione ha sempre funzionato correttamente si è sempre dato un modo di entrare nel merito sviscerare e chi l'ha condotta è sempre arrivata molto molto preparata secondo aspetto che riguarda invece i mutui chiedo scusa può darsi che non mi sia espresso bene l'ho anche messo nella nella slide che quello che abbiamo messo 50 mila euro in più 50 mila euro in meno ma a oggi è il limite che possiamo fare se no non rispettiamo il patto di stabilità non tanto la capacità di rimborso ma è il patto di stabilità proprio poi se un domani qualcosa ci cambia ben volentieri non è il tabù il mutuo è rispettare delle normative nazionali normative visto che parlano di questo andrei sul discorso Tari beh io non voglio forse ho dato un'accezione diversa rispetto a chi ha parlato prima da un intervento di un consigliere mi sembrava che riguardasse anche il discorso degli incontri che abbiamo avuto anche con altre realtà della città in materia della Tari e devo dire sicuramente per quanto l'incontro che abbiamo avuto con le associazioni di categoria sono arrivate preparate strumenti ci hanno figi studi che questo proprio erano presenti con me dei colleghi avevano materiale poi avremo modo di approfondire anche perché ci portavano senza frannome per riservatezze tutto esempi concreti di di possibili aumenti ecco poi logico c'è la riservatezza dovuta al nome il tema certo noi siamo andati a esporre quello che era l'intendimento il fatto del lavoro comune invece è quello di costruire il regolamento che dovrà essere semplice e di pronta attuazione ecco non troppo complicato per il nostro ufficio attributi il regolamento di come verrà usato il fondo compensativo il regolamento non lo vogliamo imporre noi certamente che faremo delle proposte da parte dei nostri uffici abbiamo chiesto alla sezione di categoria tramite i loro uffici studi centrali eccetera di portare anche loro delle proposte per far sì che non ci sia un contributo tra virgolette solitare mi spiegarmi bene a pioggia ma che tramite una serie di griglie eccetera chi ha subito degli aumenti maggiori abbia anche la possibilità di avere dei rimborsi maggiori non solo in media matematica ma rafforzata il tema dell'aumento percianto di alla fine del tutto avere fatto paracento l'aumento speriamo ben oltre il 50 ritornato a casa dal fondo dal fondo compensativo altro aspetto il piano finanziario parte c'è il tema obbligo eccetera ma nel momento in cui abbiamo un nuovo appalto costruiamo un nuovo piano finanziario quello che noi stiamo affrontando è un anno chiamiamolo così ponte da un anno che ha presente la gara dell'appalto pertanto sul tema tari ma sul tema tari non solo di ripartizione ma anche di costruzione del piano finanziario cioè la quota del ripartire sarà tutto rivisto in base anche all'esito della gara d'appalto veniamo alla normativa io fortuna sono andato a cercarlo in questi giorni perché avevo vissuto il passaggio tar su tares tari perciò tutta la documentazione me l'avevo tenuta poi bisogna anche nella trovare con la carta con la carta che ho rischio che di avere una segnalazione ai visi del fuoco per carichi che non va bene però mi ha fatto piacere perché il documento che ho trovato è lo stesso documento che mi ha segnalato anche il dirigente della ripartizione finanziaria lo dico come riflessione ecco non anche qui porto un contributo almeno sentendo prima mi sembra che il riferimento che faceva il consigliere era al decreto salvi Italia forse del 2012 dove c'era quell'articolo citato prima ma dopo quello vi sono arrivate delle linee guidatares che vorrei leggere faccio 2013 il ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato sentita la conferenza permanente per i rapporti allo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento prevedendo disposizione di transitore per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa cioè questo non ce lo siamo inventato come non ce lo sono inventato i comuni e sono per quanto riguarda le sette sorelle sono tutte tolto noi che siamo andati in quella linea lì tutte l'hanno applicato integralmente difatti le ripartizioni sono più o meno quelle che siamo andati adesso per la parte variabile anzi per quanto riguarda il non abitativo il 40% che è la fotografia perciò si fanno i calcoli non è che si dice prima la percentuale poi ma si fanno i calcoli si arriva alla percentuale il 40% è poi ancora una fascia leggermente più bassa rispetto rispetto al al resto il ruolo dei coefficienti anche qui sono andato a rileggermi allora che significato avevano i coefficienti e da qualche parte me lo sono appuntato ecco il coefficiente era l'indicazione che veniva data ai comuni per misurare la produzione potenziale del rifiuto ecco quello era uno strumento che veniva dato per misurare quello era con quello che noi lavoravamo con quelle indicazioni poi che sono state date nella guida per la TARES ecco questo leggo ho letto prima un documento del 2013 l'ultima cosa perdonatemi ma non è una battuta è proprio una cosa molto semplice forse lo chiamerei prima veniva citata la maestra o altre io citerei il buonsenso io ho l'abitudine per correttezza che quando raffronto altre città ed è giusto raffrontare e a volte raffrontare le altre città ne esci perdente certamente su altri temi e c'è da da imparare fuori dalla scuola è sempre ritenuto che copiare se c'è qualcosa che va bene non è un peccato anzi è utile per i nostri concittadini però il cosa io consigliere non potevo non posso dirlo questo non posso dirlo anche perché c'era no tornando a me risulta lo dico in punto di piena a me risulta appunto perché un raffronto sia corretto i dati devono essere omogenei e il dato omogeneo che mi porta e mi dà forza all'affronto è quello che devo dividere perciò bisogna anche vedere che cos'è contenuto nell'appalto quali servizi sono contenuti e che controvalorizzano un determinato un determinato costo quant'è la base il comune citato veniva già da una nuova gara già da una nuova tra virgolette anche se non è corretto rinegoziazione della base ecco non il comune ma tramite il coapster uso un termine non corretto però rende significato pertanto nel momento in cui credo che il raffronto poi può darsi che saremo ancora perdenti non voglio dirlo prima credo però che il raffronto sia interessante e opportuno nel momento in cui andremo a costruire il previsionale 2019 andremo a costruire il piano finanziario 2019 allora potremmo avere delle basi più interessanti anche per fare dei raffronti ecco questo basandomi un po' anche su altre materie che seguo e io chiedo a volte agli uffici di fare dei raffronti con altri altri comuni però sempre su basi omogenei se no l'attendibilità cade un po' ecco scusate pensavo che 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 l'onda dell'assessore fogliato continuasse chiedo scusa chiedo scusa no 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 ma parlavamo col segretario di questione di scuola a proposito di chi copiava o no perché no 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 stavamo scambiandoci delle considerazioni sulla su chi lascia copiare chi consigliere all'asia prego grazie presidente quanto tempo ho che dieci minuti grazie calma ragazzi calma allora volevo esprimere la mia solidarietà nei confronti del presidente del consiglio data la battuta del consigliere ferrero sul fatto che sia sano anche copiare a scuola diciamo che visto che lei esercita attualmente la professione di insegnante e anche se anche nei confronti di mio figlio devo dire questo messaggio è un messaggio sbagliato però poi vedremo detto questo volevo ricondurmi all'ultima parte dell'intervento dell'assessore bisogna fare confronti basandosi su una base omogenea cioè basandosi su situazioni confrontabili parliamo dello stesso servizio i costi vengono stabiliti per legge e il servizio consta di raccolta smaltimento rifiuti e nettezza urbana e l'effetto pratico alla fine che raccontavo che esplicitavo tra la differenza tra i due comuni e il costo unitario al metro quadro euro per raccolta e smaltimento quindi pienamente confrontabili secondo punto lei giustamente citava le linee guida che ovviamente dal punto di vista della giurisprudenza non sono legge la legge non impone di utilizzare un metodo specifico quel metodo ci viene dato ci vengono date le linee guida ma quello che impone la legge è utilizzare un metodo razionale della ripartizione dei costi quindi i comuni possono autonomamente se hanno strumenti migliori o che ritengono migliori del metodo presuntivo basato su tabelle ripeto del 1999 andare a verificare perché magari hanno delle situazioni specifiche una ripartizione diversa da quella del metodo normalizzato e infatti succede sia in senso negativo che in senso positivo per quanto riguarda l'effetto di questa ripartizione si è detto un giusto riconoscimento nei confronti del lavoro delle famiglie il giusto riconoscimento non è spostare i conti il peso da una parte all'altra ma è aver riconosciuto cosa che non è successa prima effettivamente gli sforzi delle famiglie fatte per aumentare la raccolta differenziata e quindi come capita dappertutto diminuire i costi di raccolta smaltimento dei rifiuti avere riconosciuto come ente come comunità la diminuzione della tariffa dopodiché si passerà alla ripartizione ma addebitare appesantire qualcuno a favore di altri ecco non lo fa neanche il peggior amministratore di condominio che c'è in circolazione lo sbattono fuori il momento dopo perché il ragionamento che deve fare deve essere giustificabile non può decidere di premiare una volta uno e poi una volta l'altro ci vogliono ci vogliono degli elementi giustificativi che siano riconoscibili da tutti e il primo punto è avere il riconoscimento dello sforzo che la comunità fa e quindi riconoscere alla comunità una riduzione della tariffa nel suo complesso la ripartizione è un altro passaggio ed è un passaggio successivo io mi sono costruito una tabella andando a confrontare i costi andando a confrontare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti dal 2009 rispetto all'ultimo anno con i dati a disposizione del 2016 con i dati attualizzati con i dati attualizzati dei costi di raccolta e smaltimento e mi sono fatto un conto di circa una diminuzione di costi possibili circa 360.000 euro nel solo passaggio della raccolta dell'organico da le zone che erano in sperimentazione a tutta la città a tutti i 13.000 nuclei familiari c'è stato un aumento dei costi per la raccolta di 55.000 euro a fronte calcoli alla mano di risparmi netti quindi costo di riduzione del costo di smaltimento dell'organico nell'indifferenziato perché costa la metà circa detratti i costi che dicevo prima l'aumento dei costi per la raccolta un utile diciamo una diminuzione della tariffa di circa 60.000 euro l'anno tutti i comuni che hanno fatto dei passaggi così importanti hanno riconosciuto a partire dall'anno successivo la riduzione dei costi all'utenza perché il lavoro l'ha fatto l'utenza noi questo non l'abbiamo visto e così non è che abbiamo risolto il problema è chiaro sembra che il nuovo appalto possa portare dei vantaggi come è successo ad Alba dove mi pare abbiano avuto una riduzione del nuovo appalto di 300.000 euro rispetto all'appalto precedente mi auguro che l'appalto concepito in modo più razionale porti dei vantaggi come ho detto in commissione l'appalto può essere ben strutturato sulla carta lo era già quello esistente che attualmente è in vigore che forniva tutta una serie di strumenti all'amministrazione al co-opster sia di controllo che strumenti che per un potenziale passaggio alla tariffa puntuale quindi eliminando i costi che adesso dovremmo sostenere per passare alla tariffa puntuale ma l'obiettivo deve essere secondo me qui sbagliamo strategicamente deve essere andare verso una tariffazione puntuale vera e propria noi stiamo pensando a una tariffazione a un tributo concepito in modo standard senza sistema tariffario ma solo con la penale in caso di maggiore consumo rispetto allo standard stabilito tra l'altro molto alto con dei dubbi tra l'altro anche 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 tecnici perché se io pago un tributo come farò a chiedere dopo che chiedo il pagamento di un tributo degli altri soldi degli altri owner all'utente per continuare a svolgere lo stesso servizio cioè come farò a fargli pagare i sacchetti aggiuntivi se non c'è un sistema tariffario ma un sistema di tipo tributo ma al di là di questo l'andare effettivamente nel riconoscere alla comunità il lavoro che fa e riconoscere il pagamento del corrispondente del servizio ricevuto lo si fa con una tariffa puntuale e molti comuni anche piemontesi lo stanno facendo da anni con discreto successo si è citato non lasciamo perdere gli esempi concreti ma c'è un consorzio in provincia di Torino che ad esempio ha raggiunto sia in termini ambientali che in termini economici dei risultati ottimi dimenticavo di citare un aspetto positivo del bilancio che avevo annotato ed era quello che si vuole andare verso un capitolato della sistemazione dei sedimi stradali in seguito agli interventi eccetera un aspetto positivo io e in particolare anche il collega Panero abbiamo sollecitato più volte negli incontri sia in commissione che negli incontri con i dirigenti con il dirigente di andare in questa direzione perché notavamo come non ci fosse in mancanza di questo strumento ci fossero problemi seri della qualità del lavoro sulle opere triennali sulle opere triennali c'era si è citato si è citato l'intervento della della bocciofila diciamo del centro della bocciofila centro d'incontro della frazione falchetto ora quell'intervento in linea generale è un intervento sicuramente condivisibile per rendere più utilizzabile la struttura e sicuramente a mio avviso per gli obiettivi di efficienza energetica che si pone è proporzionato perché di fronte alla spesa attuale per il riscaldamento che è di circa 2000 euro che diciamo che se venisse utilizzato di più quella spesa potenziale potrebbe essere anche 4 o 5 mila euro un intervento così ampio e così esteso non ha molto senso secondo me e quelle risorse sarebbero state sarebbe stato meglio reindirizzarli reindirizzarle verso altre interventi per strutture che hanno utilizzi più importanti all'interno della comunità scusate che riprendo un punto intanto ne approfitto per dire che i 10 minuti sono finiti chiedo scusa chiedo scusa purtroppo avevo altre cose ma nel disordine con cui ho rirecuperato le idee c'era un punto sì però c'era un punto che volevo affrontare la delibera la proposta di delibera 9 TOSAP in commissione sul regolamento avevo presentato delle richieste di modifica del regolamento se ne discusso nell'ultima sessione del 19 fuori tempo utile perché anche il mio documento è arrivato poco prima della scrittura della delibera e quindi intendevo presentare due emendamenti specifici per portare all'attenzione del consiglio le modifiche che volevo portare e poi il presidente mi indicherà i tempi e i modi per presentarlo un ultimo appunto rapido prima qualcuno ha parlato degli interventi di restyling della stazione ecco va benissimo non vorrei solo che diciamo il pubblico o chi ci ascolta avesse frainteso e pensasse che quegli interventi sono opera del bilancio comunale quelle sono opere di RFI non è tra in Italia di RFI e riguardano un capitolo che non c'entra diciamo col bilancio che è in discussione oggi sulla questione dell'interramento io sarei sorpreso però se fosse veramente presa in considerazione la questione dell'interramento dei binari come mai si stanno affrontando delle spese così importanti per il restyling delle banchine e la costruzione degli ascensori perché tutta quella roba lì che sulla superficie adesso dovrebbe essere smantellata per cui se l'intervento fosse previsto a breve quello sarebbe spreco di denaro pubblico grazie dunque il consigliere l'ha già accennato ai due emendamenti bisognerebbe capire se eventualmente comportano impegni di spesa e in quel caso lì i revisori dovrebbero prendere atto insomma esaminarlo e quindi cioè non saprei se posso sì 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 va bene va bene grazie presidente ritengo che non comportino però ovviamente questo è il mio parere va bene è solo una modifica regolamentare ed è ci sono due modifiche regolamentari una è quella di aggiungere all'articolo 4,1 che è l'articolo delle esenzioni un esplicito riferimento alle esenzioni per l'attività di promozione politica dove il testo aggiunto sarebbe sono inoltre previste le esenzioni per l'attività di promozione politica secondo la normativa vigente con l'aggiunta in nota quindi non regolamentare ma come informativa che l'attuale normativa di esenzione dell'attività di promozione politica prevede l'occupazione di uno spazio massimo di 10 metri quadri questo perché in quell'articolo noi citiamo dalla legge specifica la 507 1993 tutti i casi di esenzione possibili però la finanziaria del 95 ha introdotto anche questa fattispecie e secondo me l'informativa che la normativa vigente qualunque sia allo stato attuale prevede l'esenzione anche per l'attività di promozione politica la ritengo necessaria è utile a chi legge il regolamento perché teniamo presente che chi legge il regolamento non è uno che ha partecipato alla sua scrittura è un'aggiunta del testo che articolo 4 comma 1 come ultimo punto c'è un elenco puntato c'è un elenco puntato e in quell'elenco puntato scusi prima del comma 2 avrei aggiunto l'elenco puntato sono inoltre previste le esenzioni per attività di promozione politica secondo la normativa vigente il secondo il secondo emendamento invece riguarda sempre articolo 4 ma il comma 4 in cui si discute si illustrano sempre le esenzioni possibili si fa riferimento alle esenzioni nel caso in cui il comune sia coorganizzatore di eventi di manifestazioni l'aggiunta sarebbe questa in cui la frase la frase è in cui il comune risulti coorganizzatore dell'evento ovvero ecco io inserirei dopo coorganizzatore dell'evento e l'occupazione di suolo pubblico non abbia finalità commerciali o di lucro per specificare che come da norma di legge l'esenzione dal pagamento della TOSAP anche all'interno di manifestazioni organizzate dal comune se quell'occupazione ha finalità commerciale di lucro non è esentabile queste sono essenzialmente ci sono i due emendamenti grazie adesso lascio c'era il consigliere si si può passare il dottor Grillo scusate il consigliere Ferreiro prego il consigliere Ferreiro no brevissimo solo per non si dice rispondere ma fare una nota una precisazione sulle cose dette dal consigliere all'Asia in precedenza io semplicemente prima ho risposto ad una sollecitazione del consigliere Somaglia che aveva chiesto ha fatto una domanda e ho semplicemente dato risposta ci mancherebbe consigliere che ci fosse un qualcosa un euro a carico del bilancio del comune di quei lavori stia tranquillo che non ci sono anzi le dico e lo dico pubblicamente che ci sono un bel po' di lavori che sono venuti gratuitamente pagati delle ferrovie e che sono adesso a disposizione della città vedasi il nuovo il nuovo marciapiede all'indalbinario 1 il nuovo passaggio pedonale che è stato fatto completamente a carico delle ferrovie vedasi la nuova entrata il nuovo cancello che serve ai viaggiatori che vengono dalla parte nord della città vedasi lo spostamento delle barriere che è propedetico un lavoro che si vedrà tra un po' di giorni che permetterà permetterà il passaggio alla città di una striscia di terreno in fregio a via Trento Trieste che parte dal passaggio livello e va e prosegue fino a oltre la via aiutami a dire via Vitone per oltre 70 metri che potrà permettere o un allargamento di careggiata o una serie di parcheggi quindi sono tutte cose che sono venute in questo contesto di spesa ma sicuramente con nessuna spesa da parte del comune riguardo poi invece all'altra dello spreco di denaro pubblico siccome è la terza o quarta volta che questa affermazione viene fatta io direi che vada firamente poi se uno non vuole sentire non c'è nessun sordo di più di chi lo voglia fare primo questo lavoro di innalzamento dei binari è un obbligo di legge è una legge che impone alle ferrovie che i marciapiedi debbano essere rialzati per portarli all'altezza della della porta della porta dei treni che le barriere archinettoniche devono essere superate non si può con questo aspettare che ci sia il tombamento diciamo del il tombamento si porta giù il tombamento dell'attuale piano del ferro a meno sette per poter fare questi lavori questi sono necessari adesso ricordi che è successo più di una volta che per mancanza di questi sensori dei portatori di handicap non hanno potuto prendere il treno è stato poi a volte venivano i carabinieri a portarli a mano quindi una situazione da terzo mondo e quindi questi lavori era necessario farli adesso e li stanno facendo anche tutto qua attorno questo innalzamento dei marciapiedi poi ancora quando verrà fatto mi auguro i tempi non troppo di poterlo vedere ancora almeno quando verrà fatto questo lavoro non sono sprecati questi lavori la stazione rimane esattamente così dov'è il restyling che è stato fatto quattro servizi nuovi tutto quello che è stato fatto è un lavoro che c'è semplicemente si prenderanno due binari centrali si tomberanno giù e tutto quello rimane com'è gli ascensori primo e terzo saranno utili anche al nuovo quindi io direi di prendere atto prendere atto di questo questo è quanto siamo a conoscenza a oggi grazie consigliere Ferrero ha chiesto la parola al consigliere Sommaglia poi il consigliere Panero grazie Presidente parto velocemente sarò molto rapido dal discorso sulla stazione io avevo sollecitato una risposta o di avere qualche notizia sul sul progetto di interramento e anche a me fa specie che la le ferrovie adesso mi sfugge la differenza non Trenitalia quello dei treni RFI che è quello dei binari faccia degli investimenti così cospiqui oltre che per l'abbellimento della stazione anche proprio su lavori strutturali per quanto riguarda i binari e poi prenda in considerazione lo stanziamento di fior fior di milioni per il progetto che poc'anzi abbiamo menzionato avevo chiesto nel mio intervento se e se è possibile avere qualche risposta se i capitoli di spese di riscaldamento delle scuole materne e delle scuole elementari che riportano gli stessi stanziamenti dell'anno precedente e un riporto o se si prevede che ci sia effettivamente un risparmio a seguito dei lavori di riqualificazione energetica dei plessi interessati da tali lavori e un riferimento un ragionamento velocissimo sul piano delle alienazioni ci auguriamo che finalmente e non so quando l'amministrazione ha parevede di riproporre le vendite degli immobili che nei mesi scorsi sono andati deserti e ci auguriamo che si possa arrivare a una definizione è vero che il mercato oggi è quello che è lo abbiamo visto anche dagli oneri di urbanizzazione che sono in contrazione però è sperabile proprio per avere delle risorse a disposizione da investire su altre iniziative chiudo prima di fare la dichiarazione di voto dicendo all'assessore perché io non ho la fissa per i mutui anche se per deformazione professionale sovente parlo di mutui ma è perché ci sono dei lavori che possono rivestire anche carattere di urgenza che potrebbero essere finanziati in qualche modo al ricorso dell'indebitamento e non è scandaloso ricorrere ho sottolineato anche nel mio intervento che effettivamente quest'anno qualche apertura in quel senso c'è il voto del nostro gruppo sarà un voto contrario tenendo anche conto che il bilancio è una lo abbiamo detto più volte questa sera una conseguenza del DUP che ci aveva visti contrari e anche l'attuazione messa in atto con il bilancio che Testè verrà messo in votazione ci vedrà il nostro voto contrario grazie grazie consigliere sommaglia consigliere paniero prego grazie presidente sarò breve perché molti aspetti sono già stati toccati dai colleghi che mi hanno preceduto in maniera particolare da quelli della minoranza e condivido in pieno quello che è stato detto mi premeva solo anch'io fermarmi su due o tre aspetti in maniera molto rapida prima di esprimere il voto del mio gruppo se ne è già parlato tanto per quanto riguarda l'imposta Tari e in maniera particolare per quello che riguarda questo spostamento di circa 248 mila euro dalla parte diciamo dalla parte residenziale a quella produttiva cioè si è passato dal 75% di prima 75 e 25 al 60 e 40 di adesso questo potrà sicuramente far dire alle famiglie abbiamo ridotto la Tari del 10% ma la Tari non è stata ridotta è stata esclusivamente ridistribuita l'obiettivo che potrebbe farci essere felici è quello di ridurla questa Tari ma ridurla per tutti non ridistruirla in maniera differente certo che fa notizia poter dire le famiglie ebraidesi spenderanno il 10% in meno di imum ma c'è c'è una parte produttiva che ne spenderà circa il 16 in più questo cosa vuol dire vuol dire che quello che noi abbiamo sempre richiesto e l'abbiamo fatto abbiamo cercato di farcelo spiegare mesi qualche mese fa quando parlavamo appunto del nuovo regolamento del perché la maggior percentuale raggiunta in questi anni grazie all'impegno di tutti della raccolta differenziata non ha mai portato a una riduzione effettiva della tassa rifiuti speriamo da quello che abbiamo sentito questa sera che tutto il lavoro che si è fatto e questo lo riconosco si è fatto a 360 gradi in commissioni per il nuovo appalto in alcune città come è stata citata Alba è successo speriamo che anche nella città di Bra questo porti finalmente a una riduzione della tassa e non una semplice ridistribuzione con un bel gioco di numeri secondo aspetto che mi preme sottolineare è questa più volte richiamata riduzione di oneri io vorrei aggiungere ancora una cosa non solo gli oneri sono ridotti e questo è il parametro che questo settore è ancora in forte crisi ma inviterei tutti a riflettere a chiedersi qual è la percentuale di questi oneri che deriva da sanzioni amministrative cioè sanzioni derivate dalla regolarizzazione di fabbricate quant'è la percentuale è altissima su questo milione e centomila euro di oneri previsti una forte percentuale un'altissima percentuale è derivata da sanzioni da oneri derivati da sanzioni di regolarizzazione di fabbricate e questo è un parametro importante perché ci fa capire come è ancora più in crisi è ancora più in difficoltà questo settore di quello che si pensa guardando e considerando solo il numero di un milione e centomila più indicativamente oneri presunti per l'anno 2018 lavori pubblici io mi collego e mi fa specie sentire che nella quasi totalità del tempo dell'intervento di un consigliere di maggioranza riferito ai lavori pubblici di questa città ci viene spiegato un lavoro pubblico che non è un lavoro dove ne rientra nel piano triennale dei lavori pubblici di questa città ne verranno spesi ovviamente soldi pubblici a questo proposito nella commissione lavori pubblici del 17 ottobre 2017 appunto per parlare di programmazione c'è stato presentato come la città di Bra parteciperà al bando 2014-2020 di riduzione consumi energetici appunto con i due interventi uno è già stato citato sulla bocciofila del falchetto l'altro sulla scuola vescurone quello che mi preme sottolineare e personalmente mi ha lasciato assolutamente perplesso è l'affermazione dell'assessore che ci viene a dire che partecipiamo a questo bando insieme al comune di Cavaler Maggiore per poter raggiungere la cifra minima di un milione di euro di interventi per poter partecipare al bando e la domanda mia è Bra non ha possibilità di partecipare da sola perché non ha un milione di euro di interventi progettuali previsti possibili o che dovranno potranno dovre essere realizzati o devono essere realizzati per la città di Bra mi sono posto anche un'altra domanda e l'ho fatta in commissione partecipare insieme a altri comuni ci dà la possibilità di avere un punteggio più ampio più alto per poter vincere questo bando la risposta è stata no quindi questo è una nota che mi lascia assolutamente perplesso l'altro aspetto che mi preme sottolineare è una nota molto contemporanea e appunto qualcuno l'ha già evidenziata in un certo senso è la situazione delle nostre strade barra marciapiedi la situazione del neve ghiaccio e gelo dove nella stessa variazione di bilancio vediamo come ci siano una voce di 12.700 euro per l'acquisto di sale e vediamo però qual è la condizione delle nostre strade marciapiedi ma in maniera particolare mi preme sottolineare le zone pubbliche perché poi basta uscire dall'aula e andare qui nell'aula prima di entrare nell'aula del consiglio per vedere l'avviso di obbligo dei possessori di edifici in caso di nevicate un avviso del primo dicembre 2017 dove viene richiamata la popolazione al rispetto dell'articolo 61 del vigente regolamento di igiene pubblica dove gli viene ricordato che a loro carico il tenere pulito e la manutenzione e lo sgombero della neve e li si invita a rispettare questa norma per non incorrere nella sanzione che va dal 225 a 500 euro e questo sono sicuro che alla popolazione alla gente della città a vedere le condizioni degli spazi pubblici quelli che dovrebbero competere diciamo la pubblica amministrazione nella situazione di sgombero neve ma soprattutto una situazione pericolosissima di presenza di chiaccio e quindi della possibilità di scivolare e di farsi anche male e venire ricordarli di non di rispettare questo articolo vedere che il comune di Bra ha stanziato una cifra considerevole per l'acquisto di sale sono tre voci che secondo me tra di loro sono un po' un paradosso allora ultimo aspetto penultimo a dire la verità che è stato affrontato anche dal consigliere che mi ha preceduto il consigliere Elena è la situazione dell'IMU per quanto riguarda i terreni edificabili e che il fatto che è stata costituita una commissione e di questo ringrazio questa amministrazione perché il fatto di aver costituito una commissione sicuramente è stato un primo passo sollecitazione di alcuni professionisti braidesi di un gruppo di professionisti braidesi che si sono incontrati con l'amministrazione è stata costituita questa commissione che aveva la funzione di rivisitare o semplicemente di fare un po' il punto su quello che è il valore dei terreni edificabili in questo momento valore sulla quale poi viene calcolata l'imposta IMU ci si è soffermati in maniera particolare sui terreni edificabili inseriti all'interno degli strumenti esecutivi che sono diciamo quelli in questo momento maggiormente penalizzati sono maggiormente penalizzati perché questi strumenti urbanistici in questo momento sono assolutamente fermi perché sono strumenti urbanistici di difficilissima attuazione comportano la presenza di aree elevate di molti molti metri quadrati bisogna che ci sia l'accordo della quasi totalità dei proprietari ma anche quando tutti questi aspetti sono rispettati ci fermiamo davanti al momento critico che stiamo vivendo e quindi all'impossibilità assoluta di dare compimento a questi strumenti urbanistici e questa è la prima giustificazione la prima pezza giustificativa che dovrebbe far pensare a questa amministrazione al fatto che non servono chissà quelli documenti che non esistono è proprio il fatto che questi documenti documenti tecnici sulla quale ci si vuole basare per giustificare l'abbassamento di questi valori lo stesso fatto che questi documenti non esistano significa forse la prima pezza giustificativa che dimostra il fatto che questi terreni che in questo momento obbligano parte delle nostre cittadine a pagare delle tasse che non sono proporzionate forse è la prima dimostrazione che vanno ridotte e io credo di poter dire che se c'è la volontà politica di questa amministrazione di farlo non serva chissà quale grossa giustificazione per per doverlo fare chissà quale grossa giustificazione tecnica la giustificazione ce ne sono e non sono giustificazioni ma sono dati di fatto ed è sul momento che stiamo vivendo in maniera particolare per i terreni edificabili inseriti all'interno l'area di PEC concludo con una battuta me lo conceda signora Assessore io non so se esistono se esiste il comune con la C maiuscola o lo Stato con la S maiuscola io so solo e lo sanno anche i nostri cittadini e chiunque può avvalorare quello che sto dicendo che sia il comune che lo Stato sia per quanto riguarda i bilanci delle aziende come per i bilanci delle famiglie è sicuramente il socio maggioritario cioè il socio che si porta via la fetta più grande dei ricavati degli introiti delle entrate delle famiglie come delle aziende e questa è l'unica cosa che viene percepita dai nostri cittadini è questo aspetto che lo Stato come il comune sotto forma di qualsiasi tipo di tassazione è il socio direi a perdere maggioritario di qualsiasi azienda o di qualsiasi famiglia da qui a qualche anno passato concludo già con l'espressione di voto che sarà un voto contrario del mio gruppo alle delibere in oggetto grazie grazie consigliere Panero consigliere Bergesio prego grazie presidente sarò telegrafico perché già eh tutto è stato detto da dai miei colleghi di maggioranza insomma la fotografia che ci ha consegnato l'assessore di questo bilancio è io credo importante per la nostra città eh importante dopo otto anni e mezzo di questa amministrazione ehm un dato credo sia molto eh impattante da notare i più di sei milioni di euro che eh non sono più un finanziamento pubblico erogati dallo Stato all'ente locale io credo che eh dal duemilanove ad oggi anche qualche passo nella strada giusta della razionalizzazione sia stato fatto eh enti come il nostro hanno saputo cogliere la sfida difficilissima eh di ristrutturarsi di rinnovarsi di saper gestire eh quello che è stato eh un momento anche particolarmente particolarmente doloroso ehm lo sapete l'ho già detto anche altre volte io non condivido la la narrazione della crisi nel senso che eh c'è stata sicuramente ma credo che questo sia un momento storico diverso e che debba essere approcciato con parole diverse perché le parole diverse ci permettono di aprire diversi schemi di ragionamento sul periodo che stiamo affrontando e su quelle che saranno le sfide di domani ehm e credo che questo sia una nota di eh di metodo di come condividiamo le informazioni ma che poi sia sostanza eh di di quanto eh le azioni che derivano dai nostri pensieri da questi da queste nascano il nostro bilancio ha due elementi ha un elemento fondamentale che eh i soli numeri non gli darebbero che è la visione la visione di una città che abbiamo provato a dare eh di solidarietà di crescita di sviluppo di turismo ma non è solo visione e poi anche esecuzione di una visione e in questo eh uffici comunali tutta la macchina comunale ne partecipe e a questi va va il mio ringraziamento come va il mio ringraziamento a tutta la giunta eh per l'ottimo lavoro che questa sera votiamo ma poi eh diciamo è anche giusto dire oneri e onori eh un enorme ringraziamento all'assessore al tutto sul ringraziamento un enorme ringraziamento all'assessore al bilancio Gianni Fogliato che ehm non è solo protagonista in quanto tale di un lavoro buono ma questo lavoro è eh outstanding è un lavoro veramente eccezionale ehm io sono orgoglioso funziona più niente io sono orgoglioso e lo dico con sincerità questa sera di votare eh questo pacchetto di delibere eh che dimostrano un lavoro enorme un lavoro di precisione un lavoro di visione ehm ovviamente in 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 coordinamento con gli uffici e con tutti quelli che a questo documento ci hanno lavorato eh però è anche giusto spendere delle parole di chiarezza eh su quanto sia grande di qualità importante eh il lavoro che ha fatto il nostro assessore alle finanze ovviamente eh in unione con tutto il resto della giunta e e il sindaco il nostro voto sarà favorevole grazie grazie al consigliere Bergesio adesso ha chiesto la parola all'assessore Messa per alcune precisazioni ah no prego allora consigliere Amagiu prego scusa non l'avevo visto non c'era la testa di Nino che copriva in realtà buonasera a tutti grazie grazie presidente anche io voglio unirmi a ringraziamenti a tutti gli uffici che hanno lavorato per l'assessore dei documenti e voglio da qui ringraziarli anche fare gli auguri eh di buone feste perché venerdì non potrò essere presente eh per i saluti a tutti i dipendenti eh mi inizio dicendo che condivido pienamente gli emendamenti eh presentati da Claudio all'Asia e di cui ne abbiamo discusso e in parte sono stati anche presentati nella commissione e ringrazio qui per aver accettato insomma di inserire nel regolamento TOSAP la l'esenzione e la possibilità di non dover chiedere i permessi ai musicisti che sono di passaggio nella nostra città per un determinato tot di tempo eh nel rispetto insomma del regolamento TOSAP eh io vorrei iniziare dicendo che ho letto veramente molte cose belle nelle slide dell'assessore delle parole molto belle soprattutto nella conclusione soprattutto nella citazione di Don Milani in cui si riferisce insomma al bene comune all'onestà del cittadino alle serietà e anche alla capacità insomma eh di critica e dovrei dire che in questi anni ho visto non solo eh critica insomma dall'opposizione da vari consiglieri da vari colleghi ma anche tante proposte molto belle interessanti eh per quanto riguarda la Tari effettivamente una cosa che si è sentita molto tra i cittadini è la mancanza di premialità una mancanza di premialità che secondo me se passasse eh come messaggio rischierebbe insomma di abbassarsi questa percentuale di raccolta differenziata perché se io cittadino mi sforzo a fare un'attività certo per l'ambiente eh per tutta la collettività ma se poi non vedo premiato questa mia azione il rischio è che non tanto vale e quindi il rischio di di tante famiglie di iniziare insomma a non seguire la raccolta differenziata come è fatta finora la riduzione dei costi per i cittadini e quindi questo è un punto importantissimo io aggiungerei oltre alla raccolta mercatale che è stata accennata dal Consiglio dell'Asia aggiungerei non la raccolta differenziata degli scarti ma addirittura il recupero spesso si buttano materiali assolutamente commestibili recuperabili utilizzabili anche le nostre menze noi un giorno abbiamo organizzato una festa raccogliendo proprio ortaggi e frutta da questi dai rivenditori non solo del mercato settimanale ma anche dai mercati insomma ortofrutticoli che ci sono nei vari negozi e la frutta e la verdura che viene buttata è incredibilmente intatta spesso deformata non ha un bel aspetto ma assolutamente perfetta per la consumazione e secondo me un'azione del comune potrebbe davvero essere quella di recuperare e utilizzarlo nelle nostre menze anche un altro punto importante assolutamente che ritocca anche la logica insomma di questa operazione sui rifiuti è il fatto che si è lavorato molto sul controllo della raccolta differenziata ma poco su un'osservazione più ampia di quello che si sta facendo e nella commissione era fuoriuscito che il nostro sistema di controllo fra virgolette di collaborazione con la ditta appaltatrice che vi erano anche dei controlli gps di tutti i camion e quel controllo in otto anni forse è stato fatto una due volte al massimo un punto importante che molti non hanno preso insomma come critica ma io lo prenderei insomma come spunto per migliorare nei prossimi anni riguardante l'emergenza neve penso che sia mancata una collaborazione più forte con i cittadini io mi ricordo che c'era un gruppo molto importante molto numeroso di vari gruppi di cittadini che nei momenti di nevicata uscivano a pulire le strade a pulire insomma i marciapiedi soprattutto davanti a scuole e chiese questo gruppo era nato nella consulta giovanile prima di questa insomma quindi parliamo del 2009 penso 2010 e ha avuto insomma un numero di persone aderenti importante e mi ricordo che all'epoca c'era un bel coordinamento con l'amministrazione si erano stati poi forniti pale grembiuli e c'era un'attenzione e anche insomma una gestione e un coordinamento diretto con gli assessori e il sindaco e secondo me da lì bisognerebbe partire ritrovare insomma un modo di aggregare persone volontarie incentivare insomma ad impegnarsi per il bene collettivo e di persone che abbiano voglia di fare ci sono servirebbero però la mano insomma di una figura centrale che può essere davvero il comune un'amministrazione un funzionario che possa insomma fare da tramite un punto importante che si è discusso in questi anni è la mancanza lo riprendo nuovamente qui la mancanza insomma di pista ciclabili sulla visione di città sulla pedonalizzazione e sulle ciclabili perché da una parte si parla di 100 posti per macchine 100 parcheggi e questo contrasta insomma l'idea di pedonalizzare la città e di renderla bike friendly insomma e a mio avviso su questo bisogna rincidere di più pensate che solo in via Mofa di Lisio qualche giorno fa delle persone scendevano in contromano e una vigilante una poliziotta li ha invitati a scendere dalla bicicletta ma qualche ora dopo la polizia municipale è passata con la bicicletta in contromano perché la macchina perché la strada è larga perché viene naturale e quindi lo riprendo nuovamente un cartellone tranne per ciclisti ci sta nel senso unico perché la strada è larga ed è poco frequentata dalle macchine e basterebbe poco per regolamentare una situazione che di fatto esiste già mi volevo però complimentare perché è stato fatto un bel lavoro su welfare partecipato sulla partecipazione sui tavoli e sottolineo il fatto che non bisogna insomma solo vedere come vengono fatti questi tavoli ma soprattutto anche su quali temi farli e penso che se voi seguisse insomma questa linea di partecipazione allargata di allargare insomma la partecipazione dei cittadini non solo tramite welfare ma su vari argomenti con tavoli di lavoro di organizzare possa portare benefici insomma tutta la città e su questo mi viene in mente nuovamente il Palazzo Garrone che secondo me meriterebbe davvero un incubatore dei tavoli di lavoro aperti tutti i cittadini per trovare tutti insieme una proposta che parte dal basso e che possa davvero partire nel ricercare fondi stiamo cercando fondi per tantissime cose e sul Palazzo Garrone ma non solo ci sono tantissime strutture anche scuole che sono state messe in vendita ma secondo me è necessario fare un passaggio con la cittadinanza fare un passaggio con la cittadinanza per raccogliere le idee e le idee ci sono tante stanno nascendo start up ovunque ci sono dei ragazzi nella nostra città che hanno un potenziale incredibile e secondo me una soluzione alla vendita la si trova se apriamo la possibilità insomma ai cittadini di poter esprimere le loro opinioni su questi edifici e basta grazie grazie a lei consigliere quindi la parola adesso all'assessore Messa per alcune precisazioni sì mi permetto di prendere la parola anche se non era previsto per due o tre punti che sono stati citati che fanno riferimento specifico anche ad alcune mie dichiarazioni parto in prima battuta da quanto dichiarato dal consigliere Panero che si stupiva di alcune mie dichiarazioni devo dire che anch'io mi stupisco di alcune sue considerazioni che ha fatto oggi nel senso lei mi chiedeva se non ci forse avrà la necessità di fare interventi per un milione di euro sul risparmio energetico beh la risposta è che magari potessimo spendere un milione o anche di più è normale che forse in quella commissione l'avevamo spiegato non si ricorda le caratteristiche del bando che prevede un 50% mutuo mutuo tasso zero un 10% di fondi propri e un 40% fondo perduto proprio per mantenere un equilibrio fra mutui per poter permettere anche altri investimenti che mi fa piacere sono stati anche considerati positivi come quelli sportivi è stato necessario trovare un equilibrio e quindi individuare le due la scuola e diciamo bocciofila anche se è più un centro d'incontro e poi unirsi insieme a Cavalier Maggiore anche sul tema del sale ho qualche perplessità nel senso noi facciamo una programmazione di sabbia e sale che ci si augura possa durare un anno anche perché come sapete se il sale viene lasciato in magazzino durante il periodo estivo non si può riutilizzare il prossimo anno quello che è successo con l'evento del gelicidio che così per cronaca non è un neologismo ma è un fenomeno fisico conosciuto ricordiamo che capita raramente ricordo il 13 gennaio 2017 era capitato già una volta ed è ricapitato in questi giorni a seguito di quell'intervento lo spargimento di sabbia e sale all'interno della città è stato molto molto ampio certo non si è riusciti a risolvere tutte le situazioni i marciapiedi sicuramente sono uno dei punti più complicati e mi fa piacere che è stato ricordato il gruppo di volontari che pulivano i marciapiedi gruppo di volontari che ricordo nasceva dalla consulta giovanile ma che inglobavano anche persone che erano un pochino più grandi un pochino più adulte ecco questo gruppo qua è un po' invecchiato forse alle nuove eleve quindi se c'è la volontà di ricostruire questo gruppo l'amministrazione sicuramente è disponibile e voglio anche ringraziare invece i volontari dei quartieri delle frazioni delle protezioni civile che sono intervenuti in questo evento ecco questo per dire che molta sabbia è stata sale è stata utilizzata quindi la variazione di bilancio era proprio per poter acquistare nuova sabbia e sale in modo tale da garantire la possibilità di spargimento di sabbia e sale anche nel proseguo della stagione invernale fino a chissà quando febbraio che potrebbero esserci nuovi eventi gelivi risposta invece puntuale relativa al risparmio in bilancio dei consumi energetici chiarisco che quando si fanno interventi di questo tipo e lo abbiamo dimostrato in un senso dalle tabelle si può riscontrare c'è un risparmio del consumo di circa il 30% attualmente non equivale in modo perfetto quello che è il risparmio economico perché naturalmente ci sono delle spese fisse nonostante questo diciamo ottenere dei benefici ambientali ha una valenza fondamentale devo dire che in questi anni c'è stato effettivamente un risparmio anche economico a seguito dei tre interventi e quindi lo valuteremo in questa stagione invernale però abbiamo previsto un risparmio economico di circa 20.000 euro grazie grazie all'assessore Messa allora aspettiamo ancora le dichiarazioni di voto per chi vuole farle altrimenti proseguiamo poi nel cammino delle votazioni una per una prego consigliere all'Asia grazie presidente inizio con una notazione prima di arrivare alla mia dichiarazione di voto riguardante un elemento che è stato citato più volte stasera cioè la diminuzione dei trasferimenti piuttosto importante e quindi il grande lavoro che è stato fatto per sopperire a questi dati adesso non ho analizzato i dati dal 2009 almeno non l'avevo fatto in previsione di questa seduta mi riprometto che farò il compito a casa senza ma il compito a casa non so si vede quando non è farina del tuo sacco ma al di là di questo guardavo velocemente sul sito del comune le entrate dei primi tre titoli cioè le entrate tributarie di trasferimento extra tributarie del 2010 confrontate con quelle del previsionale 2018 se non ho sbagliato i conti ci sono circa 800.000 euro di differenza e devo dire che questa cifra coincide abbastanza con l'aumento no non coincide con nulla devo dire che questi 6 milioni mi sono un po' strani ecco devo essere sincero e quindi do appuntamento al dirigente per incontrarci un attimo abbia pazienza e per verificare un attimino questi dati però guardando i primi tre titoli che sono i più importanti delle entrate tributarie extra tributarie e di trasferimento 2010 2018 tutto questo differenziale non c'è per quanto riguarda lavori della stazione non dovrebbe essere argomento del bilancio ma visto che è stato toccato più volte l'ho toccato anch'io io sono pienamente d'accordo con i lavori fa parte di un piano dell'RFI di mettere a norma tutte le stazioni si sta lavorando sulla linea Torino-Savona eccetera eccetera ma se l'RFI avesse seria intenzione di fare un intervento di interramento ovviamente invece di spendere questi soldi adesso dice io metto i soldi per fare l'interramento e se voi entro tutto tempo li trovate facciamo facciamo l'interramento altrimenti non uso i soldi adesso se l'intervento non è imminente quindi il segno mi sembra evidente che l'intervento l'interramento non sarà imminente per quanto riguarda ancora la questione della Tari una cosa prima che mi era sfuggita si è detto beh intanto noi incominciamo a riconoscere con questo passaggio di trasferimento della percentuale di addebito da un tipo di utenza all'altra e riconosciamo un vantaggio all'utenza domestica e poi andremo a compensare ecco io sinceramente avrei fatto esattamente il contrario innanzitutto avrei dato avrei dato tempo alle parti sociali coinvolte di elaborare questa modifica importante che gli arriva sul gruppone e poi ne abbiamo parlato prima anche per le attività commerciali produttive il flusso di cassa è un elemento importante chiedere prima i soldi e poi forse arrivare a una compensazione non mi sembra il modo corretto soprattutto nei modi in cui viene viene fatto e ho già spiegato e ho già spiegato il perché ora io per le ragioni che ho indicato in precedenza nei due interventi precedenti darò voto contrario a questa previsione di bilancio sono d'accordo con alcune cose che sulla carta nel dupo sono scritte sono d'accordo anche nel senso che ha espresso il consigliere Ab per il fatto che ci sia uno sforzo un lavoro verso un maggiore coinvolgimento della partecipazione dei cittadini ritengo come ho detto nel primo intervento che questo lavoro non possa sia solo un primo passo ma abbia bisogno di svilupparsi secondo me in modo diverso perché il primo passo importante per ottenere una partecipazione effettiva e la conoscenza e l'informazione si ricorda forse assessore che qualche tempo fa avevamo parlato di un bilancio partecipato di bilancio sociale e di bilancio partecipato quando si programma in un ente pubblico questo tipo di programmazione questo tipo di atti il primo passo è sempre sono sempre gli incontri formativi gli incontri formativi dei cittadini delle utenze dei portatori di interesse e poi si passa alla elaborazione ritengo che l'esempio sull'Atari sia un esempio esemplare da questo punto di vista le persone che si sono sedute ai tavoli di rappresentanza sindacali sono arrivate con dei numeri che sono perché loro ragionano su quello sui numeri di confronto di ciò che pagano negli altri comuni e magari sono venute a rappresentare che ne so che è vero che la divisione 40% è attuata anche dagli altri comuni ma noi abbiamo una proporzione per esempio di utenze non domestiche diverse da quelle degli altri comuni e non bastano certo tre settimane per elaborare un confronto e soprattutto e quindi diventa che cosa un confronto a decisioni già prese per me la partecipazione è un processo più faticoso e sicuramente più lungo per questo esprimo il mio voto contrario a questa previsione di bilancio grazie grazie consigliere all'Asia mi pare che alcuni gruppi hanno già espresso anche la dichiarazione di voto o comunque per esempio la maggioranza ha già espresso la dichiarazione consigliere all'Asia ha espresso la dichiarazione consigliere all'Asia ha espresso la dichiarazione ma gli emendamenti li vediamo quando arriviamo al punto 9 sì sì possiamo partire la votazione allora se nessuno o non vuole più intervenire io dichiaro chiusa la discussione se qualcuno vuole ancora intervenire ne ha facoltà però va bene non vedo mani alzate neanche dita quindi si procede adesso alla 5 alla 16 poi dobbiamo ricordarci che c'è anche la 17 che è fuori dal pacchetto del bilancio alla 5 alla 16 una per una chiaramente là dove c'è la die si voterà la die e dove non c'è non si voterà cominciamo con la proposta numero 5 nota di aggiornamento al documento unico di programmazione cosiddetto DUP per il triennio 2018-2020 segnaliamo la presenza mi aiutino gli scrutatori dovremmo essere in 15 va bene allora si può votare devo ancora votare uno abbiamo votato tutti allora approvato con 10 voti favorevoli e 5 contrari passiamo all'immediata eseguibilità manca qualcuno manca ancora uno manca uno a posto a posto si può votare 15 va bene possiamo votare ricordo questa è l'immediata eseguibilità prego allora aspettiamo la stampante possiamo votare questa è la D ricordo ancora benissimo uguale votazione chiusa identico come la precedente 10 favorevoli e 5 contrari proposta numero 6 piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari per il triennio 2018-2020 i sensi per gli effetti dell'articolo 58 del decreto legislativo numero 112 2008 e successive modifiche e integrazioni anche questa sarà poi con la D.I.E. comunque con ordine votiamo la delibera non arriva la mano ecco la manina ancora uno va bene possiamo votare va bene votazione chiusa 10 favorevoli e 5 contrari siamo all'immediata eseguibilità ne manca ancora uno va bene possiamo votare questa è l'immediata eseguibilità della numero 6 è uguale sempre 10 5 votazione chiusa 10 favorevoli e 5 contrari allora siamo alla proposta numero 7 no siamo numero 7 si da votare delle aree decreto legislativo numero 55 dell'83 come convertito in legge numero 131 dell'83 valutazione qualitativa e quantitativa delle aree per l'attuazione dell'intervento ai sensi delle leggi 167 del 62 865 del 71 457 del 78 da cedersi nell'anno 2018 qui non c'è la di la disponibilità delle aree per il diritto di comunità popolare le aree mancano ancora due manca uno ancora uno a posto va bene possiamo votare ancora due ancora uno fuoco votazione chiusa 10 favorevoli 4 contrari 1 astenuto proposta numero 8 15 dell'89 su modifiche integrazioni contributi per gli edifici di culto approvazione del programma comunale sono pervenute richieste e quindi prendiamo atto che non sono pervenute richieste segnaliamo la presenza ancora uno va bene possiamo votare bisogna prendere atto che potrebbe succedere qualche particolare che determina il fatto che come c'è il stanzamento che sia poi iniziale sì trimenti vai ne hanno un'assimizzazione ancora ancora uno va bene votazione chiusa di 13 scusate 13 favorevoli e 2 astenuti allora siamo adesso per cui bisogna discutere gli emendamenti allora su indicazione del sole artissimo dottor Grillo faccio notare che c'è un e poi tramite allora andiamo a Cesare ciò che è di Cesare e all'Asia ciò che è all'Asia c'è un errore di battitura all'articolo 2 comma 1 e sotto punto 2 laddove c'è scritto box trattino windows in realtà si tratta dei bovindi bovindo bovindo vuol dire quei balconi aggettanti che danno sull'esterno quindi è soltanto un mero errore di box windows nella finestra del garage insomma questo grazie per chi l'ha segnalato invece dobbiamo occuparci della dei due emendamenti proposti dal consigliere all'Asia chiederei al segretario e al dottor Grillo il parere sull'ammissibilità tecnica no allora l'ammissibilità tecnica è per entrambi gli emendamenti quindi il parere favorevole va bene e anche sulla regolare da messa allora chiedo al sindaco il parere della giunta dal punto di vista dell'ammissibilità tecnica ovviamente sono ammissibili mentre esprimiamo parere favorevole per il primo esprimiamo parere contrario per il secondo grazie signor sindaco possiamo allora porre adesso in votazione la recepibilità degli emendamenti dico bene il primo riguarda uno per uno adesso li votiamo uno per uno il sindaco si è ha espresso il parere della giunta ammissibilità favorevole al primo contrarietà al secondo quindi il primo riguarda le iniziative dei partiti politici se non ricordo male e tra l'altro è già contemplato nel punto 5 della delibera dove si cita la legge 549 del 95 in materia di occupazione sul suolo pubblico per iniziative di carattere politico comunque è un di più ma anche io personalmente sono favorevole certo quindi il testo è il seguente la proposta del primo emendamento parla di in questo modo allegato alla delibera articolo 4 come 1 aggiungere come ultimo punto dell'elenco puntato le seguenti parole sono inoltre previste le esenzioni per attività di promozione politica secondo la normativa vigente punto con aggiunta esplicativa sul riferimento della norma e il limite di spazio da questa prevista per l'esenzione 10 metri quadri ho interpretato bene bene allora passiamo alla votazione su questo primo emendamento parteggiano sta uscendo quindi non partecipa a questa votazione qua va bene arrivederci quindi dovremmo essere i 14 per gesù è già votato no manca nel senso manca nel computo bisogna votare no bisogna votare questa è questa è soltanto la la presenza e poi c'è anche il secondo emendamento ovviamente allora 14 va bene giusto siamo in 14 quindi va bene si può votare votazione chiusa emendamento accolto all'unanimità secondo emendamento allegato alla deriva sempre l'articolo 4 questa volta al corma 4 e la proposta è la richiesta di aggiungere dopo la parte di testo virgolette aperte in cui il comune risulti co-organizzatore dell'evento e l'occupazione di suolo pubblico abbia finalità commerciali o di lucro ho detto abbia non abbia finalità ah rileggo in cui il comune risulti co-organizzatore dell'evento e l'occupazione di suolo pubblico non abbia finalità commerciali o di lucro solo in quel caso va bene quindi la presenza passiamo ai voti segnaliamo la presenza prego allora l'eventamento numero 2 del consigliere all'Asia chiede che nell'articolo 4 dal comma 4 stiamo sempre parlando della proposta 9 dopo la parte di testo ci sia questa aggiunta per spiegare si infatti si allora adesso attualmente il testo del regolamento la giunta può esonerare dal pagamento della tassa con proprio motivato provvedimento le occupazioni temporane derivanti allo svolgimento di manifestazioni sportive culturali e ricreative nei casi in cui il comune risulti co-organizzatore dell'evento ovvero il soggetto passivo sia costituito un'associazione senza scopo di lucro quindi sono due casi di esenzione il consigliere all'Asia chiede di aggiungere alla frase in cui il comune risulti co-organizzatore dell'evento e l'occupazione di suolo non abbia finalità commerciali di lucro consigliere all'Asia vuole ulteriormente specificare non lo so mi ha chiesto la parola ma non lo so stiamo votando però cioè stiamo votando non interrompiamo allora proseguiamo la mancano ancora una la mia le presenze sono state prese registrate adesso possiamo votare ricordo è il secondo emendamento manca le manca uno va bene votazione chiusa l'emendamento è respinto con tre voti favorevoli nove voti contrari e due astenuti indubbiamente uno del motivo di fondo per cui abbiamo votato contro perché questa cosa qui sarebbe una roba della chiedere di pagare la tosa io credo che se uno organizza non ha senso che se è co-organizzatore chieda la tosa in teoria la votazione cioè la discussione dovrebbe essere chiusa però allora un minuto 30 secondi ma non ha senso di provare parlo 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 rispetto all'intervento del sindaco il punto è questo è proprio una situazione di un po' ciliso alla manifestazione all'interno della manifestazione ci sono non mi dai sarcasti se ma ci sono ci sono delle occupazioni di chi ha una finalità commerciale quindi se l'occupazione ha una finalità commerciale secondo la legge che ci viene spiegato in commissione e anche con le esistenze poi ho approfondito con una successiva ricerca la fattispecie commerciale non è esentabile è chiaro che ci possono essere quindi all'interno di una manifestazione che ha sempre valore culturale e sociale ma all'interno di quella manifestazione ci sono occupazioni sullo pubblico in natura culturale e sociale ci possono essere occupazioni sullo pubblico che hanno carattere diciamo misto e quindi ha senso intervenire con detrazioni perché questo tazzo di libertà permane basta che non sia cara l'emazione da praticare in esenzione all'antipatico perché questa legge non lo consentirebbe e poi ci sono occupazioni prettamente commerciale inoccupazioni prettamente commerciale ha senso questo è il senso della proposta accogliamo questo ulteriore sprecisazione andiamo avanti siamo alla proposta numero 10 ah già è vero ho visto adesso dobbiamo votare il testo del regolamento che è qua emendato sì sì perfetto perfetto ripresentiamo allora tutta quanta la procedura come uscito dalla votazione sugli emendamenti di cui uno approvato e l'altro no aspetto la mano ecco la mano ne manca un benissimo va bene presente segnalate presenze segnalate possiamo votare votazione chiusa nove favorevoli due contrari tre astenuti alla numero 10 questa sarà die imposta unica comunale componente tasi tributo sui servizi indivisionali e detrazioni per l'anno 2018 presenze segnalate possiamo votare votazione 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 chiusa nove favorevoli cinque contrari immediata eseguibilità presenze segnalate quattordici 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 possiamo votare va bene come prima cinque voti favorevoli e scusate nove voti favorevoli e cinque contrari numero 11 imposta unica comunale componente imu imposta municipale propria determinazione aliquide detrazioni 2018 adesso votiamo la delibera poi la die mancano due va bene presenze segnalate si può votare votazione chiusa nove voti favorevoli cinque contrari passiamo all'immediata eseguibilità quasi tutte manca ancora uno va bene presenze confermate si può votare votazione chiusa nove favorevoli cinque contrari numero 12 imposta unica comunale componente tari tassa sui rifiuti determinazione tariffe anno 2018 anche questa sarà immediatamente eseguibile manica aspetta 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 questa è la numero 12 c'era la 17 questa è la numero 12 componente tari quella di tari niente allora va bene sì sì è questa questa è questa è giù comunica comunale componente tari 12 12 per qualche motivo era simbolata come la 13 quella di prima era componente imu la 11 questa è la 12 e tari no la 13 yuk proposta di consiglio numero 13 no scusate allora io seguo le delibere non ok e allora capiamoci perché giustamente dobbiamo capirci allora invertita attenzione attenzione allora quindi fermi tutti abbiamo votato appena la 11 adesso in ordine logico in ordine dell'ordine del giorno la 12 corrisponde alla iuk quindi si siamo la iuk che per me qui è la 13 cioè per per quelli che hanno va bene allora approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale iuc segnale aspettiamo la mano ecco la mano va bene possiamo votare votazione del bilancio va bene nove favorevoli cinque contrari votiamo l'immediata eseguibilità con le mani va bene possiamo votare votazione chiusa nove favorevoli cinque contrari allora adesso passiamo all'imposta unica comunale componente tari tasse 2018 anche questa sarà die aspettiamo sempre la manina tari sì tari spater c'è la mano c'è la mano va bene quindi votiamo la delibera va bene votazione chiusa nove favorevoli cinque contrari immediata eseguibilità segnaliamo la presenza ancora due va bene si vota questa è la die votazione chiusa nove favorevoli cinque contrari adesso siamo alla quattordici addizionale determinazione aliquote fascia di esenzione regolamento anno 2018 poi l'immediata eseguibilità va bene va bene quattordici quattordici ci siamo votiamo la delibera votazione chiusa nove favorevoli cinque contrari immediata eseguibilità segnaliamo la presenza ancora due persone va bene presenze segnalate si vota votazione chiusa nove favorevoli cinque contrari siamo alla quindici determinazione indennità di carica di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale delle commissioni comunali previste per legge per l'anno 2018 segnaliamo la presenza ancora uno va bene possiamo votare qui non c'è la die manca ancora una votazione chiusa nove favorevoli cinque contrari proposta numero sedici bilancio 2018-2020 approvazione come ovvio per i bilanci presenze confermate si vota nove voti favorevoli e cinque contrari rimane ancora una delibera la numero 17 centrale unica di committenza intercomunale revisione numero uno alla convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 stipulata in data 28 ottobre 2015 e qui illustra il segretario generale è una cosa tecnica sostanzialmente abbiamo preso la convenzione che coinvolge noi e 11 comuni del territorio rispetto ai appalti di forniture servizi e lavori abbiamo aggiornata in termini di legislativi rispetto al nuovo codice degli appalti e abbiamo richiesto ai comuni partecipanti un gettone di partecipazione per il lavoro che noi facciamo indipendentemente che i nostri uffici fanno indipendentemente dalla redazione specifica della gara quindi in sede di una specie di consulenza che facciamo durante l'anno i comuni hanno già i comuni partecipanti alla convenzione hanno quasi hanno tutti deliberato nei giorni scorsi e quindi contiamo di aggiornare la convenzione dal primo di gennaio 2018 per questo abbiamo chiesto la D e anche chiedo scusa alla numero 17 le mie ad esecutività grazie grazie segretario dunque nel frattempo sono usciti due consiglieri sì sì all'Asia e Panegaro sono usciti comunque in questo momento non c'è quindi allora se non ci sono interventi su questa delibera si può mettere in votazione se non ci sono interventi va bene allora segnaliamo la presenza va bene si può votare votazione chiusa approvata l'unanimità passiamo alla immediata eseguibilità ne manca uno allora presenze prese tutte si può votare votazione chiusa all'unanimità anche la D mentre vi ringrazio e e faccio gli auguri a tutti e alle vostre famiglie ricordo che domani alle ore 12 ci sarà un momento di feste con i dipendenti il consueto momento per gli auguri dipendenti in mattinata deve essere arrivata a tutti l'invito tramite posta elettronica della segreteria del sindaco ringrazio anche i due signori che lavorano per le riprese televisive che dimentico sempre ma almeno una volta all'anno insomma gli auguri e ringraziamenti anche a voi specialmente per la vostra presenza che è di una discrezione e di un silenzio incredibile e una resistenza anche fisica specialmente la signora che è appollaiata sulla finestra grazie grazie a tutti e buon proseguimento e auguri grazie a tutti